il ritorno di moonshiner l'ho chiamato non sapevo se è moon di wish però ho detto no ho già usato quel titolo lì non faccio fatica a parlare quindi dovrei aver pazienza va vai tranquillo è moon di wish eccoci qua oh baby ieri sera sono rientrato col botto mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno fatto il verbale no perché cosa è arrivato a casa ma perché il verbale per cosa ma perché erano nascosti erano le due di notte loro erano nascosti da qualche parte c'era uno che andava piano tutto rettilino l'altra parte è buio lo vedi si arrivano ma che è tutto dritto io ho sorpassato e loro non so dove erano impostati un qualche chilometro dopo mi sono arrivato al culo mi hanno fermato e mi hanno fatto il verbale perché mi hanno fatto due c'era lì una continua 111 graffieri sono appena tornati dalle pere direi che perfetto non so se hai visto ci sono delle casse speciali dove puoi trovare già diciamo le armi del lobby poi vabbè non hai infatti l'ho appena trovato non hai perks però almeno hai le armi è figo poi c'hai anche l'uav delle casse oh anche l'ho trovato ok abbiamo le armi quindi non c'ho un flyer davanti a me c'ho vero ora ho visto un altro ma niente saliamo su tanto 30 secondi oh foghi come è foghi grazie per il like non deve ancora arrivare la notifica non so neanche se mi arriverà la notifica andiamo 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 come è foghi super foghi super foghi bello di sta cosa che poi ti prendi subito il ghost mi sembrava anche sopra no ma qua io non vedo nessuno è la torchio bella daniel bella manuel grazie per il like buongiorno a tutti ragazzi come state bene che caldi oh grandi cazzo come state ecco qua prendo il pallone ecco il tiratore arrivano ok nemico in arrivo nell'area tanto bianco cazzo allora uno giù l'altro era dalla casa è uscito da dietro ok nebula uuuuuh i cinchi i cinchi i cinchi iiii porco diaz bella ragazzi bene 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 oh sei te che mi spari no Prova qualcuno Bene bene Tra l'altro c'ho un bel po' di mal di gola Dio buono Mi sembra di morire Non c'è una fatica a parlare Sparano qua davanti Qua c'è una cazza di fuori lì Ma se la vuoi aprire tanto per Scusa Mi hanno colpito Mica il suo rumore Togliti C'è qua a sinistra Dai che voglio che ti toglie Che casino che fa Grazie per il like Hai sentito quello lì C'è 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 Anche ieri che mi dispiace E' arrivato anche un italiano in chat Eh bello eh Fai il fenomeno con il cheat Ah così Ma in live ti è venuto Sì è in live mi ha scritto Non vuoi via Infatti vorrei in qualche modo Mettere questa webcam che mi riprenda I mausitastiere in un modo che si veda che era uno scherro Sì era solo Sì dai Lo messaggio in un modo che dovrebbe vedersi poco poco Oh di qua di qua di qua Bella dom Grazie per il like Bella la Renziu 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 Oh uno in volo è arrivato Sì è sceso Questa è una che faiettava prima Non so Questa è una patrica L'effetto bomba nebula 5 è dissono Staccato 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 Adios Raffaele ci ha fatto parel'è il timing sull'altro L'altro due team bella raffaele oooh sono qua eh? sono qua eh? c'è un po di delay nella camera del mouse un po di delay è un po lento tipo che senso delay? non era mai successo di... ormai raffaele? grazie per il like raffaele l'elicottero cassa di scorte disponibile eh uno si è buttato eh? si, l'elicottero è lancio una stordente nooo, è one shot questo ecco un tiratore ah ma è due team ma... due team ma cari 37 io ce l'ho tra gli amici, mi sa si nel senso ritardo ah Roberto grazie per il like sai che nooo questo è il lula sopravvivi e tornerai io lo vedo... io su streamlapse lo vedo in... lo vedo bene cassa possibile adesso poi lo controllo ma non saprei neanche cosa poter guardare maledetto foghi maledetto foghi tocca a te preparati lancio una flashbanger film mi fa vinci questo scontro e tornerai al fronte perdi e te ne tornerai risolvi con le maniere l'advento non lo so, bisogna provare wow vai guardare vabbè andiamo, va non lo so Io sono morto anche in separato Dovrebbero essere ancora lì Per ora non posso scoprire Va bene, va bene Renzo Poi magari si riesce a schierare un messaggio Dai un'occhiata alla clip Quale clip? Oh, li vedo forse io Adesso dove sono morto io Attacco il tiratore Attacco il tiratore Ah no, come stai? Grazie per il like, Gaeta Attacco il tiratore Oh, ce l'ho ancora qua, cazzo, l'altro Dai, oh Cioè, ho visto uno e non ho visto l'altro Non lo aveva con l'acqua Non so che mi ha ucciso a me Sotto Porco Noi le fammo le clip ma non posso riguardare Ok, quindi tu mi hai fatto la clip, diciamo, del cheat Di quello lì che pensi che si è cheat Ma l'ha appena scopato malamente Moon Sì che è fortissimo Moon Meno male che ha finito i colpi questa cosa Ho dovuto prenderlo snive Eh, sono morto Non posso risolvere io qua sulla destra Il mio cadavere qua sulla destra Destra, destra, destra Qua sulla destra Sulla destra Niente Ma mi senti? Sinistra, dietro No, dietro Qua Sinistra Ok Mi ha sembrato di ucciderni uno Però poi mi ha subito pushato No, a che parte dovrebbe essere una piccola d'aria Com'è Gaetano? Com'è ieri Gaetano Sei ritornato subito E ci hai fatto vincere i tre win Solo già Per essere passato Alla tua presenza 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 Ci ha portato a vincere i tre game Sì ok Se li scopri malamente Sai che non sono immortali Se sono Bubby con Wallach Bubby rimanono Eccolo sì Però non me ne sono Non me ne sono reso conto Sicuramente Ma l'ultimo di sicuro Non aveva Wallach Perché non sapeva dove fossi No però l'altro C'era che secondo lui era Primo Sì Quello vestito di bianco Mi ha fatto una clip Ma non so Ma lui ha detto che non può vederla Ma dov'è che la vede questa clip Dove la potrei vedere questa clip Nella chat non ti esce Quando ti fanno la clip No ieri sera tre pene della Lazio Porco zia E' vero che sei interista E' un disastro Cazzo Aspetta un po' Dimmi se poi mi vuoi restare o cose Che io sto Non ci sono Liberia contenuti Clip Ridic Oggi numero di clip 1 Alle nove e mezza Vabbè essere questa Non è Raffaele? Grazie per il like Raffaele Sì 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 Magari 37 Io ce l'ho tra gli amici Sì Sì Nel senso di targo Allora Roberto Grazie per il like Sai che no Allora ho riguardato la clip In effetti sto qua In pratica era dentro la tenda E' già uscito Con la Praticamente mirando Dalla tenda Esattamente dove ero Provo Questo dove cazzo è Sto di me? Dove essere anche un flyer Provo Dai 5% me li trova Ecco qua Ma dai Porco 2 Si fochi Potrebbe Potrebbe essere Perché Ha fatto Ha fatto una cosa un po' strana In effetti È uscito subito in mira Oh no Oh no Si comunque è veramente strana Sta 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 roba Mi ha fatto il tizio qua Nel senso che io non me ne sono accorto Perché non guardo mai la killcam Però in effetti Sto tipo in pratica Ti guardava già? Eh si Ma puoi ralentare con voi la c Poi adesso poi lo Poi magari a fine A fine live lo guardo un po' ma Può darsi Perché in effetti Lui praticamente mi guarda Quasi subito Bella Alex Grazie per il like Buongiorno Buongiorno ragazzi Buongiorno In questo UGM Ieri L'ha provato Roger King Ha detto che è OP Così è l'arma nuova Sì più o meno nuova Ma Senti un po' Foghi Te che adesso Sei un piccolo Nerd bellissimo Ma le armi in meta Sì Devo per forza Sbloccarmi Sto tre linee Che secondo me Da quello che vede Veramente troppo forte Bella Albi Grazie per il follow Buongiorno Come stai Albi Si il tre linee L'hanno nerfato Per una cagata Però Sembra che sia ancora Eh ma di sniper Aia Foghi Ti trovano ovunque Foghi Anche nelle mie live Ti vengono a scrivere A te Buongiorno Ti alzi in piedi Bella Albi Grazie per il like Ieri qua da me Ho letto Cioè ho letto L'hanno detto Al cantele giornale Due che andavano in bici Sono stati presi da un fulmine Sono schiattati Oh godias All'assietta Mentre andavano a farsi Un fulmine Minchia che sfiga Comunque Le probabilità Che minchia ti prenda A te Tutto Sono veramente già Remote così Diciamo che in alta montagna È un po' più facile Bella Alex Grazie per il follow Bella Sì Imo Grazie per il like Ti è alzato Sì ma vieni Dai su Hai più probabilità Che ti prenda il fulmine 13 volte superiore A vincere Supernallotto Seguimi Consigli finanziari Porco zio Veramente E loro hanno vinto Cioè quindi è come se avessero vinto Supernallotto Quindi Minchia poverini Cazzo Ma invece da noi Hai visto C'era una tipa Che in autostrada Di notte Era coi pattini Ma di notte Ma di notte Te devi essere veramente ritardata Si può dire ritardata Mi sa di no Mi dissocio ovviamente Mi dissocio Mi dissocio ma mi associo Ah è vero che sei la Mi dissocio ma mi associo Perché Si diciamo che qualche problemino Deve avere Cioè in autostrada Con i pattini Poi vabbè Sono usciti i video Quindi secondo me Era solo per fare Qualcosa di virale Però devi essere veramente matta Per la vita Per la vita Madonna mia Basta Basta che magari ti becchi Uno anche un po' sguroso Un camion Da noi è vero Con la bici Però secondo me La bici arrivi a delle velocità Molto più alte Di Di Un'altra colpa Non so nessuno Non so nessuno Sparo qui Sto avanti ci sta gente In un po' Esatto Si Sto aiuterare la gente in volo Ma non so Riusciti La prende sta taglia Che c'è davanti Vai vai Non è che se Probabile che tu vanno è eliminare il bersaglio ovviamente il sniper ha solo tre colpi va dentro è entrato in blu ce n'è uno laggiù in fondo ce n'ho visto è stata scoperta una bomba nebula 5 attenti è stata tattica era uno dove è il compagno era quello che hai detto te ero in questa cosa qua eh no è scappato quello lì ah no era giù era giù qua detonazione bomba nebula 5 è imminente lasciate perdere faccio di equipaggiamento per voi sta venendo verso il compagno il gas è sempre più vicino spero che il compagno non lo vedo neanche più morto il compagno nebula 5 esplosa in lontananza si va già dall'odio allora eh andrà verso l'odio non lo vedo ti l'ha già preso è scattatissimo da un botto di soldi anche poi compas per un prestito basta un giorno non lo vedo più presto di così va va fino a un milione di interesse si sono veramente cattivi eh vediamo UAV qua venditore marcato sono delle placche che non ne avevo tu ce l'hai da solo i soldi per UAV in realtà si era solo per farmi avere te vicino vuoi di te lo puoi prendere anche a te a UAV in realtà vicino vicino ahahah sono riandati dove si a parte come è sparito proprio faccio business ma se ne sta andando via la conquista ma dov'è qua davanti stanno fightando già avviciniamoci lo tiro UAV ah tiro lo tiro dai va bene UAV alleato in volo dategli la caccia non avevo visto ma no ma che timing ragazzi ce ne sono due qual è in un momento in realtà mi sembrava che si stessero sperando sì ero no la mia che sfiga li avevo anche... li avevo anche... storbiti perchè se tu gli hai sparato con l'entrata è uscito dall'altra parte avessi uscitissimo pensa a te il tuo alleato ha vinto lo rivedrai presto e poi c'è ancora la conquista quindi comunque sono in zona ma uno di loro ha preso di averlo killato nel gulag e fatti no? si 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 dico anche dell'altro l'altro team facendo ancora la conquista voi continuate a scrivere di finanza porco dio sono che siete sono eh foggy board casse in avvicinamento nuova zona sicura ho localizzato un contratto taglia qualche da penerantezza però chissà salutami con un pezzettino di sterco di moon aiaa chi è? il buon Simo aiaa ciao Simo e Simo com'era ieri giocare con uno che non ti sentiva e lui parlava e te lo sentivi lui madonna mia mochi ti vogliamo bene però fixa sto problema madonna mia che lontanissimo proviamo a salire su è pazzesco se si collavano le cose non si sentivano non troppo onibile giocare così ma il problema era di 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 lo farai secondo me qualcuno c'è ancora troppo grosso storico ma di nuovo sotto ho sentito granate dove aveva affettato prima mi sembrava non farò un uovi sennò anche sempre perso da fare serve una ricognizione sull'area la felipe scandaloso dei monkey salutiamo dei monkey come felipe oggi non stai lavorando spero che bene ogni volta che ci sentiamo melissa sempre lavorare cazzo niente qua c'è stato un momento che si è detto un'esplosione di nuovo sotto ricordiamoci qua c'è roba da prendere la lasciamo lì oppure lo apriamo così la gente non lo prende apriamo questa arma che usi te da vicino o da lontano com'è snapper no è l'altra la venice fa la fenice è l'armaguerra 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 vediamo solo un po di altezza ho scaduto ho scaduto fallimento è scaduto poi c'è un elicottero che non c'era prima però l'elicottero individuato stanno andando forse l'elicottero di nuovo però siamo arancioni cazzo eh sono loro ma sono loro ho fatto troppo eh l'ho rivisto uno si si ma sono loro la taglia non volevo aspettare che pedevano il l'elicottero l'elicottero trasporto confermato mi sta millaninando cazzo devo curare cazzo 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 ho cliccato uno qua metamarkarkarkarkar sono sotto tiro cazzo chi ha sciolto uno c'è lo sniper cazzo 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 mi hai ucciso cazzo però l'ho crattato cazzo ho paura di quello che ho visto io perché sembrava volessi fare un giretto eh Non sono in una posizione in cui sono troppo open Torna indietro Un tin nemico è sulle tue tracce No Attenzione Il gas è sempre A terra No il mio ping è a terra uno Dobbiamo arrivare alla zona sicura subito Cosa facciamo andiamo avanti o No 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 devono venire loro Devono avere una pressione loro Dai mi si è bagato Una cosa che non ho più scudi Porco di esso Che ne do due io Fini qua Qualcuno presa Ma da giallo è diventato rosso L'altro è lontano eh Tirami su tirami su L'altro era lontano lontano eh Mi sembrava C'è mica degli scudi da buttarmi Non ce l'ho già tirato Dietro 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 ha preso il pallone Ha preso il pallone da dietro Ci stanno bruciando Un soldato nemico Craccato E l'altro è un po' più a destra La tua eh Zola Ce l'hai sopra eh Mi sembra di sentire sopra Si si Qua Sta bruciando Eh ma mica Mi sembra proprio dentro la rossa Questa è il gulag Sopravvivi e riavrai la tua libertà Che vinca il video Si effettivamente però la taglia che è da gialla diventa rossa così Occhio soldato Non lo so mi sembrava forse arancione Forse era arancione Che lo vedevo lontano il compagno Allora ho detto C'è se ha il compagno lontano che senso ha che ci pusci A me è sembrata che ha fatto giallo e rosso Poi io non vorrei dire una cavolata Probabilmente nel momento che sto io ingaggiando non mi sembra Ah io nel momento che ho ingaggiato siccome non ho visto più niente Perdi e te ne tornerai Risolti con le maniere forti o cattura l'obiettivo Eh Lo spottino E' la muba e la Giorgio Grazie per il like ragazzi Come è Giorgio? Eh niente io vado in questa zona qua Vediamoci qui Vediamoci qui Vediamoci qui Dimenticate quello che ho detto Metta marcata Quale va Se non mi avesse atterrato quello dietro io avevo visto sti flyer lì Mi stavo curato Solo che c'ho lo sniper Non ho il tempo di sparare di prestare dietro Cassi in avvicinamento Nuova zona sicura Tu avvi nemico attimo Ok Che volo Minca una bella cassa di quelle Vengono lì da te Non si può trovare una cassa di quelle Vengono lì da te È stato rifornimento quindi sono state tutte riaperte Siamo fortunati che troviamo il cassero nell'Oder. Mi sembra che sia finita la cassa. O laggiù? Chi sei da me, Kree? Scrappato! Sicuro, eh? Mi sembra solo uno, no? Uno, lo sapete? È craccato, lo sapete? Che ti viene intanto, beh. Lo so, lo regalo. Non è che forse c'ha... Ho marcato un fucile di precisione. Però hanno tirato un UAV, eh? Quindi non vorrei che ci stessero pushando. Non so se ce l'aveva lui, UAV. Ho trovato le armi, eh? Ho trovato il... Io ho preso le armi di quello. Ma ce l'aveva o era... No, no. Sì, fucile a tre linee e... HB, botto. No, si è abbassato questo qua. Ma perché si è abbassato? Si è abbassato un bombardo. Ma qua lo riesce a confermare? Ho un contatto! No, spara all'altro! C'era un'altra gente che sparava di qua però, mi sembra. Oh, flyer, flyer giù! Il nostro amico questo, eh? Lo schemi di quello là di prima. Sei povero che ci arrivino da dietro qua. Eh sì. Avviciniamoci, dobbiamo prendere questa... ...la zona alta lì, eh? Sono nove team, eh? Sì. Otto team. Dobbiamo andare larghi e rischiarci per prendere l'altezza là. Quindi tutti quelli sotto devono... ...devano salirci. Buon rischio perché qua è... ...totali open. Ecco, uno è sceso già qua. Attacco il tiratore. Un lodi. Eh, potrò sparargli ma... ...ci spottano. Niente, proviamo. Uno è terra. Cazzo, ho il pallone. Eh, ormai. Il pallone è maledetto, ce l'ha bene. Siamo tutti nella zona sicura. Ma l'hai confermato il tizio? No. Qua c'ho... ...il ingegnere, c'è una... ...una mina, quindi saranno qui dentro. Ah, lo vedo anche io. Ah, lo vedo anche io. Da lodi, eh. Ma i due lodi che c'erano prima, lì. Il luogo pronta. Il film. Non ho colpi dimitrino. È morto uno di quelli di là, eh. Ho sentito morire uno. Oh, volano, volano da qua. Eh, l'ho buttato giù. Eh, l'ho buttato giù. Molto davanti, guarda. Arrestato. Finchia di nuovo quello lì. Eh, c'è di nuovo il colpi dimitrino. È un camion qua sotto. Non ci credo. Ma dai, ma che palle! Non ci credo. Ce l'ho... L'ho distrutto dentro il camion, tipo. L'ho distrutto dentro il camion, rega. Buono, eh. Con tre team, eh. Tre team, quattro persone, però. Due team, tre persone. Un team da due, un team da uno, eh. Un team stava sparando sotto. L'ho distrutto. E' un team da sotto. E' uno di troppo sotto che si lo mi ha distrutto. Il team da due. Sì, questo non ha bisogno. Un team da due. Mentre mi guardano. Sì, lo chiamavano. Sono adscutato. Tutti nel suo. Sì, l'ho distrutto. Sì, l'ho distrutto. Allora dobbiamo guardarci intorno Perché se ci pushano gli altri è un casino Non riesci a guardarmi in culo Eh sì Questo è perché secondo me Questo è quello singolo Che cosa potremmo anche non cagarci In realtà Cazzo il giro sta facendo Adesso Non arriverà da me Eh sta passando da sotto Da fuori Gli altri ti danno? Uno si mi ha dato di qua Da 61 Rimangono gli altri due Uno è qua E l'altro è di qua Un po' più a destra Uno è giù Non riesci a confermarlo Mi togli il pink blu Si è restato Uno è giù E l'altro è qua No non è l'astore verde Questo Sta restando Un po' più a destra E' un po' più a destra Un po' più a destra Un po' più a destra Easy win Easy Easy win La prima era di riscaldamento La seconda si vince ragazzi La seconda si vince La seconda si vince ragazzi Bella ragazzi GG 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 Bella Moreno Grazie per il like Bella Stefano Com'è Stefano Sulla cecchinata Al povero del camion Eh poverino E poi era anche italiano Poverino Madonna mia Cioè tipo E' bello Quando ti passa il colpo Dritto nel camion E te lo kill Cioè Senti proprio La potenza del cecchino Porca dio Figata bene Com'è Stefano Bella bella Abbiamo fatto le cose giuste Quando siamo andati lassù Comunque bene Sto gioco cazzo E' tutto positioning Rega Tutto tutto positioning State attenti a sta cosa Perché veramente A un certo punto Quando poi Ho visto la safe Come si chiudeva Lassù E' il punto più bello E' il punto in cui Tutti quelli sotto Dall'aeroporto Devono salire Quindi sei in vantaggio Comunque Nelle sei finali O loro per salire Si devono anche fightare Hai più tempo per respirare Avevamo lo shop dietro C'era una figata atomica Comunque bravo Soprattutto che come me Giochi ancora a MK Eh guarda Io sono sempre Sempre giocato Mouse e tastiera Ah io ho iniziato Quando avevo 5-6 anni A giocare al primo code E' sempre solo Mouse e tastiera Io non ho mai giocato Da console Quasi bello come giocare Con Monkey Da quanto giochi a code Hai tanto memoria Muscolare e visiva Da code Ci gioco da Da sempre Da sempre 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 Il primo titolo Allora Io sono mezzo olandese E Ho scoperto Call of Duty 1 Grazie a un mio cugino Sì 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 Dormivo a casa sua In pratica Vedevo che giocava a code 2 A Call of Duty 1 Tra cugini olandesi Allora ho detto Minchia che bello Sono tornato in Italia Comprato computer Che ai tempi Minchia Cioè Andavano lentissimi E da lì ho iniziato Cioè ho incominciato A giocare Mouse e tastiera E E ho incominciato Un po' a nerdare Sai Poi i primi I primi clan Le clan war Queste cose qua Il multiplayer Una roba incredibile Ai tempi Il multiplayer Minchia Una roba pazzesca E da lì ho iniziato A giocare un po' più seriamente Su Call of Duty 2 Solo che ero ignorantissimo In pratica Su Call of Duty 2 C'erano degli aggiornamenti Che però dovevi fare Lo te manualmente Quindi io giocavo Nel Call of Duty 2 1.0 Invece Diciamo La La versione Reale del gioco Era 1.3 E con la 1.3 C'era anche il Punkbuster Che è un anti-cheat C'erano altre cose Io invece giocavo In 1.0 Minchia nei forum Nei clan Incomincevavo a fare Le partite così Tutti che si davano Dei cheater Te sei cheater C'erano le commissioni Per Per vedere Se eri un cheater No Vabbè A parte quello Poi ho iniziato Su Call of Duty 4 Invece Call of Duty 4 Invece Ero già Un po' più grande E ho incominciato A giocarlo Molto 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 Seriamente Sono arrivato Nei top team italiani Dei tempi Noi eravamo proprio Era l'inizio Del gaming E lì ho iniziato A giocare Seriamente Sempre il multigiocatore Cerchi e distruggi 5 contro 5 E lì ho fatto LAN Ho fatto competizione Con quei LAN Con i PC Fisicamente Tutti vicini In tutta Italia In tutta Europa In Italia avrò fatto Almeno una trentina di LAN In Europa Hanno fatto Almeno una ventina Tanta roba Tanta roba Nel senso lì O Avevamo il nostro Il nostro Multigaming Che Che pagava Ci pagava Diciamo i viaggi Le cose Lì non era Non c'era ancora Il fatto dello stipendio Perché non c'era Non giravano ancora Così tanti soldi Però già avere Comunque un team Che credeva in te Che ti pagava Per andare a fare le LAN Per giocare Minchia Io sono veramente Ho giocato in tutta Italia Ragazzi Sono andato in Europa Pagato Cioè era veramente Una Bella Andrea Grazie per il follow Era veramente Una figata Ragazzi Cioè Era il periodo Tipo delle superiori Tornavi A casa Cominciavi Mangiavi Nerdacchiavi Un pochettino La mattina Il primo pomeriggio E poi noi Nerdevamo La sera Tipo Si vede bravo Io fra pochi giorni Faccio 31 anni Gioco dalla pandemia Me la cavo Ma ho bisogno di troppo E' iniziato Ponto tardi In realtà che la curva Di apprendimento Eh quello si Cioè già te Comunque anche la mentalità Guarda che sto gioco qua E' diverso dal multiplayer Però per certi aspetti Nel momento dell'ingaggio Secondo me Il mio background Del multiplayer Comunque di giocarsi Le situazioni Perché cerchi di distruggere Molte volte rimanevi Uno contro quattro Due contro cinque Cioè in tutte queste situazioni Ti creava un team play Con il compagno Che comunque Ti aiuta Adesso mi aiuta O comunque Ti aiuta A giocarti le situazioni A capire il gioco Cioè la cosa veramente Che La gente magari fa fatica È che in realtà Sto gioco qua Anche a sparare Non è che devi essere Cioè per vincere Non devi essere un fenomeno A sparare Se sei forte Vabbè Ovviamente aiuta Però è tutto il team play Tutto il saper giocare L'essere Veloce mentalmente Il pensare già Cioè A come devi Spostarti dalla mappa Devi pensare Tutti in anticipo I positioning Sono tutte cose che Che non sono scontate Cioè è la È la È la base Cioè se ti sai muovere Nella mappa Anche se non sai sparare Ma ti posizioni sempre bene Avrai un Un certo vantaggio Rispetto agli altri Poi è vero Che se sei forte Magari in una situazione Di svantaggio La La giri E la vinci No no Quello è vero Eh però Se Adesso poi magari una volta Ve lo Ve lo linko Cioè se vedete su youtube Scrivete R-I-D-K C'è un Diciamo Un movie Che mi avevano fatto Quando giocavo A Call of Duty 4 Secondo me è bellissimo Io ogni Ogni anno Me lo guardo Perché comunque Quel video lì Praticamente Sono tutti i miei ricordi Di Call of Duty 4 Ci sono tante competizioni Cioè lì sono tutte le competizioni Con i top 25 Europeo Cioè i migliori 25 squadre europee Sono tutte Tutte kill Su quei 25 lì Non è come tipo Warzone Che minchia C'è la gente che fa I video I movie Che magari Faita Con un team Distrugge un team da 4 E questi team da 4 Poverini Magari sono 0-20 KD Oh cosa stai salendo Ma ero a load Lì invece Cioè facevi le kill Contro quelli forti Cioè quindi E lì c'è La prima parte Che sono le competizioni online La seconda parte del video Invece le competizioni Le competizioni invece In LAN C'è un botto Di Di load Ce n'è Un altro qua sotto Con me Ce n'è uno leggermente Più sopra Al mio ping Ce n'era uno Ancora più sopra Non ti vedere Un lottico Open Ma Sbaglio Io ricordo Il tuo spettacolo Solo un colpo Emissato A uno che Giampava da una colina Però adesso Tutti colpi a sé Oh è sceso Sotto qua Stacco il tiratore Lancia una stordente Un po' dito E fuori Dovrebbe essere Uno sopra Che sta aprendo Lodi Si Non so però Se c'era un altro Che stava fightando Quello del camion E' ucciso Poi dobbiamo stare attenti Sotto Perché sotto Anche c'era Del Del Lodi Mi sembra che sia Sparito Qua Nel camion Dobbiamo stare attenti A quei due Lodi Sotto Secondo questo Dobbiamo Sotto E diciamo Che comunque Per dire Oh ci sono Infatti Si parla qua davanti al Lodi Oh eccoli qua Però adesso Guarda Te lo consiglio Se riesco Te lo guardo Te lo linko Anche subito Perché ti giuro A me Fa troppo piacere Era un movie Di proprio Vecchia maniera Non tira tuo via Oh Ho visto uno Salire qua No Saliamo su No Ignorate Questo era quando giocava Call of Duty 4 Cerchi e distruggi 545 E ti ripeto Quel Quel movie lì E' solo competizioni ufficiali Dove c'erano premi in palio Dove c'erano i top team europei Solo i top team europei Poi era proprio un sistema Che ti aiutava a migliorare Quello di Call of Duty 4 Perché c'era tipo un canale Si chiamava Irch Mirch Non mi ricordo bene Se era Irch o Mirch E praticamente lì Potevi fare partite Per provare diciamo Il team O cose così 5 contro 5 Cercavi le partite lì In quel canale lì C'erano solo i top team europei E' solo quello E' seri abbastanza forte Poi da riuscire a entrare In quel canale Irch Sapevi che comunque Giocavi con tutti i top player Mi sa che fightano di là Scusami eh Ho capito che magari Ho fatto uno che arrivava col pallone Oh arancione Torniamo un secondo indietro Non facciamo il bonte All'allenamento particolare Se hai tipo Se giochi da Da computer Cioè se hai Oh rosso C'è tre Dove sono? Spero che siamo rinchiusi qua Non mi piace Magari da sotto? Oh dai Qua 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 Oh mi ha sparato l'altra Mi croci mi croci? Mi sto sparando un altro team Facciamo tutto il giro Facciamo tutto il giro Stesso li saremo di qua Ok ci stanno sparando La di là C'è una precettina Ma questo mi da due colpi Mi distrugge E qua poca Quello sul ponte Mi si è mangiato i colpi Mi compagno è nel giro Chi sopravvive Si guadagna un Ah sei in arrivo C'è un po' 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 Non c'è uno shop In questo momento Allora per l'allenamento Diciamo La cosa Se hai il pc Dicevo Cioè Aim lab Lì come si chiama Cioè per la mira È veramente assurda Lì Esercitare la mira In una maniera Veramente allucinante Io diciamo Non ne ho più voglia Di fare quelle cose lì Però È veramente un picco La cosa lì Se impari a usarlo bene Migliori la mira tantissima Poi secondo me È il fatto di giocare Pensare sempre A posizionarti bene A muoverti bene La velocità di pensiero Proprio Essere sempre a A pensare già Alla mossa successiva Nel momento in cui Hai qualcosa Un Se sei in difficoltà Sempre a pensare A come uscirne Molto prima Non viverti l'attimo Nel senso Pensa già Tipo adesso qua Potrebbero salirmi Da qua C'è la salita Lì sotto Potrebbero essere Andati là Di qua Cioè ragiona sempre Non giocartela Così Andando in giro E basta Guardandoti Pensa al timing Con le cose lì Questo gioco qua È tutto timing C'è uno shop qua Menditore marcato Madonna mia No L'uavino Me lo meritavo L'uavino Si usa ename Ma non spesso Solo che bisogna Considerare che c'è C'è gente con Movement OP E col pan Non mi sa un po' Inoltre si hanno DS4 Eh Quello sì Comunque Diciamo Se non avessero L'Aim Assist Sarebbero troppo Svantaggiati Diciamo Però è anche vero Che Cioè L'80% dei player Ha bisogno Delle Delle Massi Ma quel 20% Di gente Che sa giocare Cioè Diventano Delle macchine Da guerra Nel senso Che te miri bene E Agganci Riesci a raddrizzare La mira Senza uscire Diciamo Dal corpo Allora Allora Li Spacchi Non so Se vuoi provare Andare Eh no Ormai si sta Chiudendo Là dietro E quindi Diciamo Non Quelli Veramente Veramente Forti Non Non Mi sarà Un colpo Perché Nel momento Che agganci Sei bravo A tenere Io ti darei Un'arma Solo che Se Ti do Un mitrino C'è solo Lo sniper Da distante Non posso Incaggiare Questa è Una placca Magari Ma guarda Quasi Quasi Ti do Però Il mitrino Te lo posso dare No no Vabbè Mi dai Il mitrino Io provo a sparare Da lontano Allora hai un'arma Dai Però Almeno 60 Me li prendo Scusa Te li stavo dando Tutti Vai vai Sono full Così Si ma la mira Si muove anche Da solo Ho provato Il pad Eh si Uno qua Pri Uno qua Sì Non ti rispondo No Ignorate Ma io Non posso Pusciare da vicino Perché c'ho L'arma grigia Eccolo Appena di sopra Pusciare da Ma che maledetto Sarebbe da pushare Oh Craccato Sono sotto Del personaggio Davanti a te Che corre Quindi se te In un ingaggio Da vicino Hai uno di quelli Che si muove tantissimo bene Comincia ad andarti davanti Comunque Il personaggio Ti va verso Verso dove sta andando In effetti È bella Anche perché Anche perché hanno fatto Degli studi Anche un professionista Tipo della formula 1 Che hanno dei riflessi Allucinanti Non riescono a stare dietro All'omino Come Come l'anticipo Del pad Quindi Comunque Quell'anticipo lì Comunque Ti Ti fa stare Un po' più tranquillo Nel momento in cui Ti stanno davanti Ti si stanno muovendo Invece noi Non possiamo anticipare Dove va Perché non ci si muove Insieme al personaggio Quindi noi Per assurdo Quando ci fanno tutti Sti movimenti Per noi è più difficile Mirarli Mirarli E uccidere La taglia Vediamo come si chiude Qui Obiettivo sistemato Splendido Tante volte Per fare broken camera Ma gli si accompagna Eh sì Siete pure i bagniop Vedi proprio che si alza Seguito il petto Eh sì Poi col fatto che Che salti Poi anche La mira poi va più spesso Sulla testa E ti locca la testa Sì Tutte Eh Va la merda Bisogna allargarci Fino a giù Metta marcata Oh Eh Te non ce l'hai le armi ancora Vero? Eh Troviamo i soldi Magari Eh Lasciami i soldi Allo shop Trovati Trovati Ti anche player mediocre Eh sì Che semmeno ti fai il lobby Dai Cosa che poi Dobbiamo sbrigarci A correre Eh Eh Lo so Però se Se la pensi Al contrario Comunque Non sarebbe neanche giusto Che Il fatto che Loro Non abbiano le masse Perché Mirare Senza Cioè Come usi tastiera E mirare con il pad È tutto un altro modo O fai Dividere le community Completamente Oppure Sarà sempre sbilanciato In un modo o nell'altro In un modo o nell'altro Sarà sempre sbilanciato E quindi poi Non ci puoi far tanto Ho localizzato un contratto taglia Per me trovare una via di mezzo Sarà impossibile E comunque Quelli Quelli Scarsi Quasi Dovresti aumentare le masse Quelli forti Dovresti abbassarli Puoi farlo In base al KD Però Non ha senso Oh Qua 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 l'avanti Qua la skin blu Mi arriva la side qua forse non devo sparare identità del bersaglio confermato se no il pallone va bene mico, attimo stanno sparando da lì sopra però ma non ho il mitrino guarda qua davanti ho detto ma te hai il mitrino proprio del gulag oh dio oh se tu corre sei vicino a me perchè mi spaccano a me mi è salito maledetto ah ah ha uscito uscito forse ce ne erano due non oggi amico cazzo sono morto andiamo a stare vicini porto a dio ero dentro di te l'ho craccato col mitrino mi l'ho distrutto se sparavo un colpo lo uccidevo ecco roll assist ah c'è un po' la gulag ah c'è un po' la gulag ma alessandro grazie per il follow benvenute buongiorno infatti non sono contro le master sono contro a come è implementato un nerf non lo so rendere meno forte il roll assist sopravvivi e tornerai in prima linea perdi e sarai fuori dai giochi vai e fatti valere è l'arma alla caccia lì oh lei come si è incazzato questo è l'andrea grazie per il like grazie alessandro per il like grazie per il like grazie per il like io se riesci a coprirmi il lodi me lo vado a prendere eh sto andando anche io lì però deve darmi un tempo perchè finisce è proprio pieno di gente ma è mica dei colpi di sniper si tutti nella zona si va che ne hai io non lo so un uomo ooooh sarebbe quasi da prendere un po' di altezza sopra guai si almeno se no piuttosto anche qua a destra fightano qua a destra mi stai sparando lo sniper? ci sei? no e3 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 cazzo ci sei? no e3 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 cazzo fai il 5 team eh eh 5 team 10 persone sono tutti da due? Una ci arrivava da sotto La taglia Mi prenderei solo perché mi dà fastidio Sto rumore di merda Di socio Mi stanno guardando Mi sembrava Dal massimo allerto A qualcuno qua Arriva il gas Marco la nuova zona sicura L'ho visto Mi spara dappertutto Dobbiamo pensare più che altro Andare in safe Andare in safe Johnny Vieni Sei pronto? Sì Non sarei qua Anche se le armate scatenate C'è gente anche qua Mi sento sparare C'è gente che ne abbiamo ancora uno Morto uno E' qua dalla torre Sento correre Io non so come è fatta Sta cosa Lancia un'altra Lancia un'altra Lancia un attordente Lancia un attordente Non sa niente Non sa niente qui Non sa niente Non sa niente Lagiù stanno fightando Forza Ultimi cinque Team da due è uno Quindi di là stanno fightando Di là sono due Sì Mi ripinghi scusa che non ho capito Sono alti Sì allora ce n'era uno qua E uno qua Ma non lo vedo E qua dietro Il blu mio Dietro ste rocci qua Te non sei in safe Cioè non siamo in safe No Non siamo in safe Vai io sì Il gas si avvicina Nuova zona sicura per voi Minchia da loro Io continuo a non vederli Sì sì è là dietro la polaro Attacco a trappolo nemico Alla riparo Stato il bombi ci segue Io L'ho visto Sparano addosso Qua dietro E passi sempre più vicino All'Antonio Guardate per il polo Come stai Tony Quante cazze Sì 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 Passi anch'io Dovrebbero essere scesi Comunque 2 e 1 Ricordatelo 2 e 1 Qua Merda Terra 1 Sotto terra 1 Stavano fightando lì 2 contro 2 Era un tipo qui sotto a me Eh lo vi Cazzo Adesso ti invito Tony Però noi facciamo caldera Dunque qualche game Lo facciamo sicuramente Io praticamente gioco con Diciamo una cumpa di ragazzi che Ci sono i miei due migliori amici Poi ho alcuni ragazzi tipo Moon I miei amici che Che sto cercando di far migliorare Adesso Moon è tornato Da un po' che non giocava Bella veri Grazie per il like Arriviamo subito Tony GG guys GG 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 Entriamo da lui Eh l'unica cosa è che io devo andare online Vedi so Gani37 Io ce l'ho tra gli amici Ce l'ho tra gli amici Questo qua l'abbiamo ucciso Cioè l'ho ucciso prima Non mi ricordo chi è Se ti va stasera e sei in live Di solito noi siamo trafissi No Stasera non ci sono Mangio fuori e E faccio serata Quindi non ci sono Ma in questi giorni sicuramente Organizziamo qualcosa Ricordati Assolutamente Ah io mi sono messo online Bon Tony Se non ci sei mi inviti Nice game Attenzione Attenzione Vado a guardare qua Ice dealer Io ho 2 di KD Fino a Verdun Stavo sotto al 2 Ma le ultime season Le chiudo con 3 di KD Ma voglio chiuderle con KD Minchia Eh no è bello Quando hai degli stimoli Quando vuoi migliorare Vuoi arrivare a un A un obiettivo Eh fai bene Nel senso per dire Anche io su Verdunsk Giocavo Anche ad altri giochi In realtà Quando c'era Verdunsk E E giocavo con un ragazzo Fortissimo Ma andava tutto a caso Tutto a caso Lo saluto Luca Grande Grande frenesia Grazie ciao Sono amicissimo Eh si guarda Mi sono messo online Perché ero offline Tanto sto gioco qua È bagato Tra poco Mi dovresti vedere Comunque io su Verdunsk Avevo 2 e mezzo Di KD E il mio obiettivo Era Minchia voglio arrivare a 3 Minchia voglio arrivare a 3 Allora poi A un certo punto Mi sono messo un po' Con la testa A dire Minchia Io voglio giocare bene Cioè non voglio andare a caso Ok siamo bravi Ci buttiamo in giro Così facciamo Un bei fight Però poi se io muoio Sempre Non vinciamo È fino a se stesso Ok fai tante kill Ti diverti Ma io voglio anche vincere Cazzo Chi è che si diverta A prendere il Kaiser Allora ho analizzato Un po' di più i game Sai Ti riguardi i tuoi vod Incominci a guardare Cosa sbagli Cerchi di capire Ma se faccio queste cose qua Oppure Incominci a capire Dove sono i posti Che ti piacciono di più Le rotation Che ti piacciono di più E incominci a analizzare bene La mappa Io volevo arrivare a 3 Di KD generale Allora ho detto Minchia voglio imparare Mi sono messo un po' Ho iniziato un po' A salire Forse il KD Sono riuscito a portarlo Fino a 3 Mi sembrava un risultato incredibile Poi è uscita la nuova mappa Che secondo me A me piace un botto Caldera Perché secondo me È ancora più tattica È mille volte più tattica È molto più positioning È molto più piazzarsi bene Muoversi bene Minchia alla fine Ho praticamente su Caldera 5 di KD Adesso il generale Pian piano da 3 Sono riuscito a farlo salire A 3 a 37 Però capisci che Comunque è difficile Alzare Magari Il KD generale Di un gioco Che mica Ci ho giocato Per 60 giorni Però almeno Sono contento Che adesso Su Fusita Stats È diviso Diciamo Il KD E c'ho 5 di KD Comunque Voglio troppo Perché sono un pushatore seriale Come ieri Che ho pushato Il tuo amico a storage L'ho messo giù Mentre volevo Eccolo Eccolo Aspetta che invito Anche Il buon moon Di Wish Com'è D'apposto D'apposto Bene 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 Non è che c'ho Un mal di gola Pazzesco Non ce l'avevo neanche Durante il covid Bene Una roba del genere Non riesco quasi a parlare Ieri mica ero Alle 3 di notte Non riuscivo a parlare Deglutire Operazione Last Call E cazzo Sei startato Che cos'è sta roba No no Eh perché Aspetta Porca troia Allora Un attimo che stavo rispondendo a Brambo Che mi ha chiesto se Aspetta arrivo Io rispondo a Stefano Sono Corri È quello Secondo me È quello che sbagliavo io prima Nel senso che Ti senti bravo Comunque sei bravo 2 di KD Sei bravo Sei molto più alto Di Praticamente la lobby Il 2 Già sei sopra di Penso Quasi tutti Però il fatto di pushare A caso Ti porta comunque In delle situazioni In cui è difficile uscirne O comunque Dove vieni arato Se te pushi Ma di intelligenza Ti cambia completamente Il mondo Nel senso Te magari pushi Ma pushi nei momenti giusti In positioning In cose Vedi che poi Fai tante kill E vai molto più avanti Nel game E il KD si alza Giustamente E in più Fai anche molte più win Eccomi scusate Mi ero Mi ero mutato Un secondo No non eri mutato Comunque va bene Te su Discord Mi senti Maledetto Non volevo disturbare Il buon toni Ma poi comunque Per aver appena iniziato Durante la pandemia Avere due di KD Cazzo Tanta roba Poi Mose e Tastiera Così dal nulla Te giocavi ad altri titoli Prima Mose e Tastiera Sono contento Perché Miki ha avuto Due giorni di buio totale Non riusciva a vincere un game C'è delle robe Infatti adesso Volevo Fare un rinse Porco dies Di tutto quello Che mi era successo Una sera Che poveri Cioè Stavo proprio Avendo sfiga Mi è passato l'aereo Col bombardo Mentre ne stavo chillando due Mi butto al bombardo Addosso E esplodo Entro in una casa Prendo una mina in faccia Mi prendo l'RPG in faccia E E Ito 1 E' una delle robe allucinante Mi spara un sniper Dall'altra parte del mondo E non c'entrava niente Maronna mia Warrock 15 anni fa Me lo ricordo Warrock Porco dies Mi aveva Un amico delle superiori Mi aveva Me l'aveva fatto scaricare Mi diceva che lui era forte lì E L'avevo 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 battuto Vi ricordo che Con lo sniper Non potevi mirare veloce Tipo c'era Tipo la C Ti accucciavi E uscivi Ma era lentissimo Il movimento Non riuscivi a fare le Le giocate da sniper Fighe Ah Citar Citar lo sai che Alla fine non ci faccio Tanto caso Oh fame Alla fine anche prima C'era il buon Foggy Che mi ha detto che Secondo lui citava uno Però non ci sto tanto Tanto so che ci sono Tanto Cioè Se ti trovi quello palesissimo Ok Sai che è così Smutiamo anche gli altri ragazzi Ciao belli Eccolo Scusate scusate Stavo parlando con la chat Ciao a te Hai fatto bene Anch'io prima Mi sono Sei caldo Ti sento bello caldo Sono caldissimo C'è quello Non puoi capire Stamattina sono proprio A bomba Sono una molla Saranno i cazzi tuoi Ti avviso Aiaia Sì 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 Una merda In realtà Ho trovato molto più riscontro Di quello che pensavo Su il commentary Credo che lo farò Addirittura anche per la gara di domani Per le qualifiche di oggi Anche perché le qualifiche di oggi Ragazzi saranno una figata pazzesca Ricordo a tutti tra l'altro Che Verstappen e Leclerc Partiranno dal fondo Per i cambi su Power Unit Che hanno fatto Per cui ragazzi Quante ne sa Quante ne sa Eh un po' troppe Troppo troppe Let's go Motherfader Ciao Massimo Sento un po' di gente Sbaglio Sento voi Sì mi sembra che c'è gente C'è gente C'è gente Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Centrale Un altro Terra Terra Un altro Qua Qua L'ultimo Un altro Un altro Team Un altro 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 Terra Sto pushando Sì c'è un silenzio di tomba Lo sto pushando anche io C'è una velocità E se ne sarà andato via Non vedo il terzo Qua Sì Anche il terzo di tutti Terra Bella 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 Mamma mia Fenomeno Trovissimo Ciao Gio Buongiorno Io ne ho Tre Se vuoi Vieni qua Comunque ne manca ancora uno sopra Sì Uh c'ho la cassa C'ho le armi Ecco due Butta butta Ah buono Andate su o sotto Eh su Vorrei vedere se ci Se ci arrivo così qua Eh c'ho la taglia arancione Io non me ne sono accorto Delle taglie vicino Sì Dovrebbe essere sopra Eh In altezza dal lago Lo sto provando a ingaggiare Non li vedo La montagna sembra clean Ah sì Agenzia dei cazzi Gio Ahia So che ti piace Rosso Minaccia 3 Minaccia 3 Minaccia 3 Minaccia 3 Sono qua sotto Sono qua sotto Vado con silenzio di tomba Non sento passi Quello da me Strano Ma è un flyer È molto strano Non riesca O sono qua sotto Metta marcata Non so che devo andare a prendervi l'odio Tanto adesso c'è una Armi ce l'ho Sì dai vado a prendermi Ah io sono sceso Cazzo Grazie per la comunione Oh mi ha sparato dietro Dove eravamo noi Dall'alto Dall'alto Sono dove eravamo noi Oh craccato questo Ecco un tiratore Uno qua l'alante Eh non sono riuscito a pingarvi l'altro Eh un tuo compagno è nel gulag Chi sopravvive si guadagna un rientro Eh si è messo male Una sinistra one shot No infatti non one shot Con paura dell'altro Uno a destra Tato tantissimo Eccolo sto Allora la casa sinistra No si è dato qua Il tato ancora Il tato ancora Vuoi respirare? Hai seminato il cacciatore Non ho fatto tiro Io ho il pallone Possiamo anche riprendere Eh ti hai preso le armi tu eh Sì 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 andiamo Possiamo prendere altezza Andiamo andiamo Ciao Veldir Ti prendo la cazzata sto dietro io Sì sono qua però Ma non mi ha fatto due cazzo Non mi ha fatto due cazzo Alla cazzata è finita Continua Mi è quindi mai come è la situazione? lo vado a te prendibile? si in teoria si li ho fatti due o tre arrivo arrivo grazie dicono che mi vogliono mandare via da grau perchè non usa i cheat usali che problema c'ha? te li danno gratis si lo vedo non li vedo neanche io vado sul tetto si eccolo qua uno eccolo sinistra sinistra confermato come è la flyer flyer sull'oddy 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 è qua eh metta marcata a terra c'avete uno qua sopra? morto e timalentato va bene qua 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 camion camion si mi sa quello che ti fa ho preso ho preso qua salto eh c'è un flyer lassù infatti adesso prendo boss e ve ne posso dare altri 110 mamma ridi hanno preso il pallone hanno preso il pallone dietro eh ho visto che hanno preso il pallone si si sopra sopra stanno andando alle tende faccio un giro faccio un giro ti sembra uno da salto ancora tu solo te li do eh no a posto a posto tienite lì per me li dai dopo eh hanno sfumato qualcuno ah non ho colpi di sniper io però cazzo vieni se ne avete qualcuno bella grazie sinistra ha cercato uno ha una terra minchia pazzesco non è possibile è entrato un graffolo c'è ancora uno qua davanti eh Tony dovrei stordirlo stordito sopra 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 hitato 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 eh non lo ho smirato 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 sono in giro qua no sono in giro qua scopro ancora arrivo arrivo eh sto facendo oh c'è una cazzo 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 lo devo furare eh eh io lo metto a coprire che farà ho un altro team qua no no mi ha di nuovo distruttito la neido due neida addosso no 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 cazzo non ho visto scusate due neida addosso ragazzi guarda quelle comunque era un altro team pazzesco che sfida E li avrai la tua libertà Porca vacca Non ho visto quella Sella mia sinistra Perdonatemi Ma è stata sfiga Perché al certo punto Io ho intato uno Che praticamente era Headshot in realtà Secondo me E l'ho L'ho craccato E l'altro Mentre gli sparavo Si è abbassato con la C Ho detto no Bele Questi qua erano due già morti E poi te la montriamo Una Madonna Io ho craccato tipo tutti Mille di danno E due kill Vai Tornerai in prima linea Perdi E sarai fuori dai RISOLVI CONLE CONCATTURALO FIATTI AII Potrai tornare in prima linea Un luogo Prendiamo questo contratto saccallo Eeeh Una merda perché poi c'è da sotto Vai tutti quelli di Erfile Ma c'è scegliato Ma c'è scegliato E se provi E' scegliato E' scegliato Ma niente Non ne vedo altre C'era la rotolata sua Rockmica Ma la ricordo E' vero Però non ci ho giocato tanto Qualche volta giocava a Quake Quake era una figata atomica Ci arrivi? Dici che riuscivo a recuperarla? Sì dai Recuperiamo Recuperiamo E' che ci ha preso sto team da dietro Sennò se non c'era l'altro team si C'è una cassa di scalle Andati a prenderla All right Ok dai Comunque è veramente dispersiva sta mappa Quello che vuoi Ti piace Ma troppo dispersiva Sì quello si Che ci vorrebbe un compromesso Non era assurdo Guardando che non mi vedano Busciare? Eh Non mi busci Probabile Prendi il vai E' quella che io vado all'ultima Ok vado io Alla prossima destinazione Oh pallone Eh ma non ci push Non ci push Non ci push Non sembrerebbe che ci push Io sono un buon dragon Trovate Resta pure Resta pure Vado Prendo la seconda posizione In una parte speravo ci pushasse Ragazzi Oh vabbè Rip Qua ancora da Da luttare Magari siamo fortunati Riusciano a trovare Unico le casse O soldi per il nodo Abbiamo 8000 Esatto mancano due Non ce l'ho pushato alla fine Quello del pallone L'ho pushato a finire Sono geneva Un geneva 8000 Guarda No No Ce l'abbiamo Bene bene Arrivo eh Rascetemi soldi Stiamo al Tieni No C'è un clopo Buono C'è un clopo Aspetta No Ritifo Non c'è nessuno metà marcata e se si si è recuperabilissima dai lancio ma che ti chiami te toni toni simon un lato un lato pazzesco risparare l'area dove il nemico andava per fare un trucco ma mi ricordo che c'erano i cheat che volavi in alto tipo volavi in cielo e ti venivano c'erano dei cheat che erano palesissimi tipo vedevi il personaggio come se adesso vedi uno volare in cielo ti spara tutti i colpi in testa e muori non aveva un senso logico che gioco? warrock su pc era un gioco gratis ragazzi pallone aspettiamo di ritornare da qua vediamoci qui c'è un team ok vero oh davanti a me scusa scusa l'altro crema verra no ma ha cecchino merda oddio c'erano davanti agli occhio si e ti è provati al controllo fatto fatto maledetto non c'è altro team però eh maledetto magari hanno un'estrazione mi ha messo i soldi per restare al volo dai troppo me li vado io tu coprimi quante volte sei morto povero morto vabbè ma quello era infrattato non potevo mai vedere povero gabbiano ti ha perduto la compagna torno un attimo lì al pallone a prendermi le armi sì sì c'è il pallone sono morto qui vado a distruggere qualcosa passibile che non c'è nessuno le cazze sono tutti vado a lutare un po' andiamo a cercare un nuovo video veramente l'incredibile ora qua cadaveri ovunque ma come stai voglio donare i miei bin mia fortuna whatsapp sicile e onesto ma fermo sembra ferma la mappa cazzo è lobby di legno? sì sembra veri sì guarda qua car e h4 questo qua non rientra un anima no ok ho visto qua uno ok arrivo tipo qua eh vediamoci qui era uno ma non so non ho capito se era un po' un flyer eh forse un po' è uno qua un po' era un'altra qua è una rose l'altro sta crossando verso di lui spascato eh vabbè fatti un po' sono qui dietro sono qui dietro c'è un flyer anche terra con l'in volo non ci credo morto non ci credo bravo alla nuova zona sicura gas in arrivo eccolo tutto sinistra lo vedo qui dietro le casse però sarebbe quasi sei lontano moon sei lontano moon anche perchè ne avevamo due qua davanti a noi ecco il tiratore c'è un giro a destra io va qua uno eh arrestato come vedo vado a destra va via ha fatto lancia una stordente questa rotetta è lanciata in altezza si gas vi raggiunge bene va male lasci i soldi poi prendiamo tutti autoresse si autoresse oh qua 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 uno ho un contatto bravo una giù lasci i soldi poi tieni questo è il tipo che ho era il flyer eh l'ho ucciso anche prima a questo punto ok è morto è fermato io sto avanzando senti che siamo completamente open eh sento no siete voi sono stati qua vicino cazzo sono andati questi contentissimi che non abbiamo né 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 altezza né niente secondo me sono andati l'alto oh nella casa blu qua davanti a me si stanno sparando stanno no mi spara dentro al muro porco dios non so quanti sono eh volevo provare a aiutarti ma dentro la casa a finestra eh si anch'io stefano sarei non sarei sicuramente sceso qua io sarei andato qua in altezza mi piace prendere altezza qua era un più alti da bombardamento di precisione alleato eccolo la vedo 100 qua in fondo questo avversario è ostile eh si 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 stefano però che qua nel momento che vedi la gente pushare in avanti bisogna stargli dietro anche se secondo me è sbagliato bisogna stargli dietro io avrei preso altezza ma questi sparano comunque bene qua avete anche luoghi delle del loot ecco le qua davanti a voi davanti a voi ce n'è uno qua davanti a voi eh tipo qua eh uno è dentro già la casa no eh niente niente da dietro ci sta pushando anche da dietro eh pipsa di nuovo eh pipsa di nuovo eh pipsa di nuovo eh pipsa di nuovo niente qua raga secondo me dovevamo prendere altezza andare su verso la montagna che eravamo in altezza e riuscivamo a fightare meglio comunque lì mi hanno preso in un momento che ero dietro a un coso di legno aveva quel coso lì che hittava e mi vedeva attraverso il legno mia mia porco di esso ero mutato eccomi eccomi siccome dovevamo prendere altezza ragazzi hai visto come cazzo sono morto? cioè tu hai visto come cazzo sono morto? dio di un dio eh eh madonna l'unica cosa avevamo abbiamo giocato bene poi lì secondo me dovevamo solo salire un po' nel momento che ci abbiamo all'altezza poi abbiamo tutta la possibilità di fightare bene dopo lì comunque ho avuto sfiga che mi hanno sparato esattamente dietro a un legno avevano quel perks che mi vedono attraverso il legno mi hanno messo tutti i colpi anche quando sono atterrato mi hanno messo tutti i colpi dentro e che palle così è difficile così è difficile eh l'altezza l'altezza minca il problema è che eravamo in mezzo a tre team eh sì 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 eravamo in mezzo a tre team e incredibile tre team tutti che puntavano a noi cioè sparavano solo a noi sì eravamo panino eh sì è una roba allucinante arrivo eh no ma infatti ci sarei andato quando eravamo c'era il momento in cui c'era lo shop lì lì scomera col momento lì di salire tutto su a sinistra eravamo vicino alla montagna vabbè adesso tanto la vinciamo adesso la vinciamo adesso preparate l'attrezzatura manca poco comunque ieri mi sono messo serio su caldera ho fatto quattro win non me l'aspettavo sì sì mi sono trovato molto bene non so a me piace c'è qualcosa che nella mappa in sti giorni mi sta piacendo beh i colori non so perchè fanno cagare non so perchè hanno dovuto cambiare no invece e invece sai che io li apprezzo di più così sembra di vedere Verda Scania 80 i stessi colori di Verda Scania 80 uguali quello sì poi ci sono in certi punti che la luce ti dà fastidio tipo dal basso verso l'alto quello sì a me piace Verda Scania cioè caldera perchè secondo me è tanto tattica tanto tattica tanto tattica sono in cito nooo porco dios eh sì Michele è vero dove andiamo? eh una merda pigate voi perchè io qua sti safe così è veramente boh eh o scendiamo a peak proviamo il delirio allo start proviamo ma ci starà il mondo o via mine pinga pinga a te dai picchi in alto? dove vuoi? dove te la senti? nooo questo è l'errore che facciamo col mio team vediamo gente e poi ci troviamo eh sì esatto questo qua è infatti io molte volte adesso con col bontoni non ci gioco spesso però quelli che giocano con me lo sanno che io tipo in quel momento lì già vanno su nel senso che non non stanno neanche a seguire gente da destra lì è anche io avrei fatto così rica ci arriviamo domani però anche io anche io sì guarda che Docs era lontanissimo adesso io sto a sto peak c'è sto peak e non l'ho più visto ecco questo qua mi vuole rompere il co*****o per forza con la lava non ti voglio non ti voglio sparare scendere scendere raga mi stanno facendo devo andare qua ok scendo anch'io allora c'è un drone che mi ha visto c'è un team qua che sta andando a restare il compagno arrivo 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 scusate minchia non sto provando a restare il pazzo scatenato ah mi spara un altro team qua io muovo da da destra a terra scusa per la scam fa niente mi sparono dalla finestra mi hanno puntato dentro la casa è un altro fuori quella pistola ma è l'altro arrivo arrivo ho un altro team bersaglio in vista usciano altre sopra di noi sono una terra mi ha fatto l'altro dentro dentro casa dentro casa tato 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 un altro team ah l'ho crattato e questo senza mirare mi ha ucciso c'era veramente schifo comunque sta safe pazzesco sopravvivi e tornerai in prima linea perdi e sarai fuori dai giochi risolvi con le maniere forti allati allati io vado a load mi piace nel terreno mi piace nel terreno forti anzi il tuo compagno si è meritato un rientro a casa ci sono tre load ci vengo a prendere il mio il tuo compagno si è meritato un rientro vedo un approvvigionamento dai ci provo dai si è prendibile 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 ci andiamo via col camion subito ti sparano un po' da pezzo oh lascia c'è roba da prendere non lo so come vuoi ma come volete voi hai scelto la fazione giunta dai la pezzo ah picchiato qua c'è tanta altezza magari ci sparano da un tetto mentre siamo passati cioè quello da in camion non muore ma gli altri due va bene va bene va bene ok 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 tutto qua la dox era dalla parte opposta in teoria della della safe dovrebbe essere abbastanza safe in giro eh c'è un elicottero che arriva alla destra non mi ricordo già più di uno schiavo tranquillo giacomo grazie eccolo minchia non riuscivo a salire oh vai chi è non è qua i lodi li vedo sto pronto a farmile lì ok sono scesi lì allo shop ah li ho visti si li ho visti sono lontano io però non posso aiutarti io sono lontano io sto arrivando sto arrivando anche io sono un po' lontano easy easy secondo me fanno lo down no 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 li vedo open open uno solo one shot carro uno andato non so se non ho visti altri eh sta arrivando un nemico sta arrivando un nemico un nemico io lo vedo caccato cattissimo one shot a terra dato manca il terzo ok lì siete voi ok lo vedo no non lo vedo scherzavo flashato bene eh lo shop lo shop è one shot a terra spara spara qualcun altro mi è sembrato spara qualcun altro guardate forse il vostro fuoco no era mia era mia ci abbiamo botto i soldi eh faccio un gua via intanto si facciamo un gua via manetta ricognizione urgente ma se lo può vediamoci qui un flyer direi uh nice un flyer si direi che un flyer si andiamo a riprendere quelli dietro verso qua è ferro eh qua c'è si si ok andiamo s 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 prodotto toglie s s la propria io non ho un uomo davanti z 4 alleato in coro carriera caccia la mia assoluta la sua propria scusa che lo scambato l'ha fatto bene fatto bene un po mamma mia bravo posto se ne uno me lo da sotto da da docks potrebbe essere entrato nel bunker se lo da basso c'è una taglia con il nanae alla nuova zona da prenderla ho andato a farvi colori tranquilli questo sta quasi per salire ok sta salendo si è bugato il c'era un altro mi sa io ho un grappolo vicino non ho stordito però sei sicuro? anche a me sembra sentire il rumore ho sentito camminare con un po' di sacche sotto oh autoress che culo donna fracciante forse forse si è andato via c'è una tappa lì c'è un altro c'è un altro no l'ultimo l'ultimo chi è? si è coltellato lo stava coltellandola dietro c'è gente sopra? non ci credo basta c'era tanta sono andato sono buttato sono buttato sono buttato nooo si nooo nooo parcatroni che sfumato questi da dove sono usciti dove sono arrivati più che altro ma Reddick dieci bombe quando l'hai fatta? ho fatto il devasto il delirio porco dio mi gira le balle parca puttana cioè quelli sotto lì erano tre mi sono buttato giù mi chiedono ucciduti e tre poi l'altro l'ho accoltellato poi sono arrivati altri sono riuscito a tornare la stordita a stordirmi ma porco dio e loro nessuno cioè io sono sotto vengo stordito gli altri tre no com'è possibile? vabbè magia magia pazzesco come mai avete avuto i due gulag? avete trovato ho trovato gettone oh ok infatti mi sembrava che fossimo morti tutti arrivo prova a prendere quella prova dai prendilo che io vado a restare una nai una nai grazie vado da lui vado da lui vieni da me vieni da me arrivo da te con la sua team eh ma c'era il team no? se no vado a prenderle eh sì c'è un team che spara via 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 ti riesce un muro a prenderti il pallone a venire lì eh ti proviamo ho fatto un pallone qua vicino a me cazzo mi hai trovato un uovi ci sta no sta guardando ho lasciato i soldi un contatto 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 se mi venga a prendere stiamo avendo la mano armi 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 arrivo bombardamento lasciate salvi davanti la sciata arrivo c'è un flyer c'è un flyer che sta andando tipo direzione qua il fatto di brutto ma non è bravo non è lui però è che ha atterrato un altro in quella casa lì ok andiamo perché c'è il puntatore ma si è buggato c'è il puntatore del scegliere lì lancia una storia arrestato è la giunta arrivo io li sento un team nemico ti dà la caccia sopravvivi io non li ho sentiti però potrebbe parlare forse qua un camion c'è un camion allora che cazzo sono attenzione in alto spara anche da lì quello che mi sta pushando a terra mi sembra uno scudo uno scudo dobbiamo aiutare lui uno l'ho atterrato di quelli io io non li vedo sei giù sei restato uno sei restato uno che era a terra è tantissimo c'è un altro da dietro un altro team da dietro terra mi spara da dietro maledetta solo tu puoi farcela è nico in arrivo nell'area cazzo muori cazzo e vabbè gg 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 che cazzo allacchi 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 va bene dai ma tu che cecchino stai giocando? io lo zrg perché il tre linee non l'ho ancora sbloccato non l'ho ancora sbloccato infatti è lentissimo entrare in mira è un casino atomico veramente pazzesco adesso quasi quasi mi faccio la classe di nuovo pinciati comunque tra due team eh si guarda secondo me dobbiamo pensare un po' più al positioning perché qua ogni volta siamo sempre in mezzo a mille timbri eh ho capito ma il positioning lo prendevamo fuori safe cioè se gli vuole prendere la tezza dobbiamo andare indietro ma no ma lì purtroppo in quella zona lì era merda il positioning lì è impossibile o vai subito sulle colline lì sopra dove abbiamo fighttato noi oppure cioè come fai è impossibile la zona un po' del cazzo guarda ma no io sto ancora pensando al team sotto il bunker cioè il secondo team cazzo è uscito posso entrare alla prossima io di solito non faccio entrare nessuno perché poi la gente mi chiede sempre di entrare un altro giorno vincenzo poverino però stavolta qua tanto ne faccio le ultime dov'è cazzo 27.93 questo è butternet però eh ma scoperto mi chiedo mi chiedo sto morendo sto mai io col Km mi sto trovando la dio comunque io col Km mi sto trovando la dio comunque il? il? KM, come cazzo si chiama? KG? KG40, con il mitrone? KG40, si si sto trovando da dio ma l'hanno fatto un botto in teoria no? ma guarda, sincero, io sto nerf non l'ho visto perchè io lo usavo prima e... lo sto usando tranquillamente prima non l'ho mai usato, quindi in realtà non saprei dirti, però mi sembra che faccia ancora un male dell'ostia rispetto a prima... donna l'automaton c'è l'UGM tipo, che è bello P dicono si ma balla un sacco qui lo usava anche Vortex, Beyblade e Savi, micchia fatta roba, cazzo guarda, secondo me posso usare il Volkswagen con un cecchino, è fortissimo oppure l'automaton, sto vedendo che è ritornato c'è questo che ti invito allora? beh Lorenzo, grazie per il like, buongiorno, buongiorno, come stai? beh Lorenzo ti invito dopo sta parita qua allora se intanto si sbagga il fatto delle amicizie, ogni volta ci mette mezz'ora basta scherzare basta scherzare inizia la vera battaglia 3, 2, 1, let's go minchia ancora sta safe di merda pingate voi io pingio, io pingio andiamo a fightare di brutto qua andiamo sul tetto, stiamo attenti che ah non c'è l'elicotter andiamo sul tetto lì, è sul tetto più alto ci buttiamo subito su un'arma che vedete fightiamo gli potetici vai, va bene, va bene il gas è troppo vicino, alla zona sicura lancio di denaro in arrivo, giorno di paga, gente ma arriva un po' di gente andiamo e stai una sveglia, puntine con la tua laio inizia al finestre grande cazzo Lorenzo, bella Marco, grazie per il like ah no, non sto morendo, c'è gente vicino a me ne avete uno, due sotto? hanno già l'arma? non ce l'ho ancora l'arma, cazzo la priorità è un uccidere sui lì, anch'io uh, c'ho le mie armi, oh? c'è io una mitraglietta da prendere lasciami una un fucile d'assalto eh, il problema è che io lo sniper mi riesco a... sì, ce l'ho, ma non è rivellato, se devo clavarci gente che è entrata sotto? mi sento uno sotto sotto è sotto, sì vediamoci qui questo è un shot sotto sotto, sì bravo, aveva la marca, erano in due l'ho visto in fondo, uno bravo un po' bravo, bravo mi sento ho fatto lo spottino ah, mi ha sottato a me uno è qua vicino a me, ragazzi sono anche da dietro, mi sa non va davanti a me sono giù davanti, confermato arriva, arriva, arriva c'è un po' davanti, entra c'è un soldato c'è un soldato, si è buttato un un flyer anche magari c'è ancora un team eh, lo sento, lo sento lo sento lo sento lo sento lo sento io ho beccato uno bravo bravo del gula, ragazzi lo sento davanti questo potrebbe essere un flyer ho scelto la passione giusta, bello pensato sento ancora corre sì, me li sento sopra io ho sbaglio sì, sì, sì siamo tutti nella zona sicura pochi colpi di dimitrino vieni qua, vieni qua ricarica un secondo, li sento sopra no, non ho capito se è sul tetto è dentro, ah no, è sul tetto è sul tetto buono sai che è qua dentro, sai un autoresco eh è stata scoperta una bomba nel gula 5 attenti non so, poi lo vediamo subito guarda ho fatto le palle non c'è nessuna mi sa che sono andati a me d'altra anch'io mi sembra di sentire ma non capisco andiamo a arrestare dai ah, son qua ecco un tiratore se mi dai soldi vado ad arrestare oh mio dio colpito in pieno eh, la cazzo parano a destra lo stop quadrato forse si, quadratino andiamo a arrestare, va a aprire andiamo a arrestare me la rotolò bella scivibi, grazie per il like cazzo dove stai scivibi che sberla che ha preso quella che bella sberla mi sembra che ogni tanto mi laghi perchè quando l'ho confermato mi sembra di sparargli e un'ora dopo è morto cioè assurdo mi prende un UAV eh per prendere eeeh se mi lanciate un UAV io posso vedere se vado a vendere a loadout ma c'è sempre quello la no loadout no loadout no loadout no cazzo cosa la fai pre? devo pusciare questo qua sopra meca con bolt cosa hai? è davanti a me con lo sniper mi ha preso mi sparano addosso parto ci sono due nella casa qua al fronte una mitraglietta da prendere oh mio non sta ad andare al shop tipo? aspetta no mica è stato velocissimo cazzo speravo che si fermasse quel quel momento per non so andiamo verso il lodi così magari cerchiamo di coprirti ne prendiamo asa lì vicino c'erano due persone minchia oh questo sta pusciando o è un flyer? ah no l'hanno appena avversato qua ho un contatto vai via tanto so quei quel team da due oltre che è un casino fai tagli a noi drop qua ha preso il drop è cinchinato ho avuto un po' di esplosione va via mi sta pusciando si nooo sono caduto provo a coprirlo vieni vieni adesso ho proprio da coprirti non sono caduto tutto come un foglio no no lo so prendere sto prendere posso posso vai peccato perchè era la taglia e l'ho craccato ma normalmente ha preso il gula che ha preso la ok gente a sinistra dell'out buono questi invece sono quadrato sono andati alla fine c'è una claimer a seconda stai attenti mi ha atterrato quelli di quadrato eh potrebbero pusciarci mi ha autorresto no mi sta sniperandolo da dietro il cazzo è morto mi chiama missato oh oh qui stavo coprendo lo sniper hanno preso il pallone prendono il pallone scusciano eeeh non lo vedo più lo vedo io il tato sai dove si è buttato lì sopra nella casonera di fronte a noi eeeh vaga io sono bravi eeeh mun mi riesci a arrestare senza di fightare mun è importante mun non fightare sta pusciando ti sta pusciando col pallone eeeh uno anche da sotto eeeh allora piedi posizione sopra scambi non oggi amico ci sono bravi cazzo dobbiamo cadere in safe un altro fuso pallone l'arra sopra avete un bombardo? no poi l'ho atterrato da dietro anche mi sta ingegchinando via 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 scappa scappa se riusciamo ce ne scappiamo proprio oltre guarda siccome non possiamo fightare anche se le atterro di sniper io sono da loro audio un secondo no vabbè sopra primo piano contratto fallito tempo scaduto devo giocarmi in position io devo andare in safe non riesco proprio a aiutarti questi però ti devono scendere audio audio uno a terra da me mi sparo non mi sparo tazzo non mi molla panculo uno a terra da me sulla collina l'ho ucciso uno in macchina che con la macchina quella aperta l'ho tritato uno shot one kill nei due dietro forse c'è uno sniper di quelli li cazzo che era bravo mi ha atterrato due volte bella tonio grazie per il light tonio yep 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 non c'è manco uno shot qua rega non c'è manco uno shot qua rega devo trovare uno shot portato ma che cazzo di light tonio è che arma è cazzo no comunque secondo me dovrebbero fare che se una macchina è in movimento e te scendi dalla macchina perdi un po' di vita ti gambizi o l'animazione mentre scendi è diversa non ha senso non ha senso oppure è così è così basta di lamentare di risultare sono sono ligure eh se non un bugno vediamoci qui cazzo cazzo no non c'ho cazzo niente devo rischiarmela a caso così secondo me cerco di farmi sta zona lì finchè non si chiude bacca boia una bomba nebola 5 sta per esplodere via da lì via da lì via da lì s cairo cazzo t subscribe si la taglierà sotto la taglierà sotto di questo era uno su un ragione morto comunque niente ma non è detto a meno che non fai una place della madonna stanno faietando sono loro eh sono loro maledetto no sono rosso aspetta che c'ho c'ho un ragazzo che voleva entrare aspetta allora ragazzi grazie per la compagnia io vi saluto bella bella ciao belli buona giornata ciao 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 aspetta ora titi esco dal party ti l'invito dai oh ma cos'è che mi continua a uscire porco diaz oh non veramente oh lo vedete anche voi o no no rega dai no 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 non ha senso no rega mi sei buggato stefano non lo faccio a posta ti giuro c'hai guarda il mouse eh lo vedi dalla clicco qua e mi esce aspetta ci sei moon eh? moon eh? si si ci sono ah ok no che ti invitavo adesso è sul secondo dal gioco che mi sei buggato tipo ah non riesco ad accettare la richiesta mi esce e mi va sulla sulla pagina principale ma io ti sento la gara non so se sei tuo o se non io ma però non mi spengo Entra in un qualsiasi canale che ti invito Entra tipo in Warzone Team 1, The Cycle E poi ti sposto nel canale live Ok, ho detto 91, ti ho visto che ti sei collegato Ecco qua, sposto in live Eccoci Bella, bella, bella Senti? Yes Ciao Ciao, ciao Basta, adesso rientro in gioco e vediamo se si sbaga Ma vedevi che facevo richiesta amicizia e mi andava indietro Sennò al massimo ti faccio fare la richiesta a Moon E poi ti invito a lui piuttosto Adesso vedo, dai, in teoria mi riesco dal gioco e rientro Dovrebbe sbaggarsi Non ho mai avuto questi problemi Non la faccio fatica a parlare pure Con questo maledicolo Recupero profilo online Da un'ora Ecco che sta pulendo il tappetino Che Mi ha fastidio Non è molto grigile Niente, non Non riesco Non va? No Prova ad aggiungere Moon Ti riesci a scrivere sulla chat Come No, se lo ti aggiungo io No Eh no Ormai me l'hai mandato a te A me è se vuoi invitarmi Vai beh, prova Eh, dettagli il tuo nome Moon Se non lo vedi da qua Se c'è la live aperta te lo faccio vedere da qua Comunque M maiuscola O O Ok Sì N maiuscola S maiuscola Ok H Sì Due volte I Due volte I Sì N Di Napoli N Ok E di Empoli Ok R maiuscola di Roma Ok Asterisco Ok 970 Ok 7908 E questo come però è Activision Ok Mandato Io veramente Sì, è arrivato Sono allibito È strano Non hai visto sto bug Ma è la prima volta Ieri ho beccato un bug nuovo Cioè Avevo C'era il loadout Che era proprio a bordo mappa Vicino alle linee tratteggiate rosse Non partiva il contro la rovescia Che sei fuori zona Morivi diretto Orgodias Vago il tempo di Eh sì Ti conto che sono andato Proprio dietro al loadout Perché c'erano dei team Che si sparavano Quindi mi sono messo cover Il tempo di andare dietro Sono morto Dio bordo Bella Stefano Buongiorno Ti ho invitato Non mi è arrivato Non è possibile Ti rinvito Che hai invitato Ho invitato Adesso sì Adesso sì Adesso sì Adesso sì Eccoci Ce l'abbiamo fatta Allora Batterò io Al terzetti Bella Stefano Grazie per il like Adesso voglio vedere Se da qua Posso accettare Vabbè Posso fare via Richiesta amicizia Vediamo se Se riesci a accettarmela Mi ha detto che io Anche io ti ho mandato La richiesta Non so Te l'ho accettato Io Ti vedo offline Pazzesco sto gioco Com'è Stefano Ah bene 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 Dai Abbiamo fatto qualche Bella winning coppia Poi il terzetti Ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Io quando mi hai tirato La granata storage Dicevo come cazzo fa Sapere che sono qui Mi è passata Però E' il fatto che io L'ho tornato con il rischieramento E il mio amico L'ha ucciso un attimo dopo E non mi ha detto Ma pensa a te Però lì è sbagliato Forse Cioè minchia Dovrebbe chiamare Il mio amico ignaro Che avevi luo vi Infatti dicevo Ma cazzi sono arrivato Fino di qua Sto crossando via Per scappare E sanno dove sono Come cazzo è Questo cazzo di cheater Se non eri in live Pensavo che vi Volà Punto Purtroppo sto gioco Ti fa credere Veramente a tutti Perché c'è Della gente Che è veramente strana Veramente Veramente strana Bene Lorenzo Se volete un quarto Troppo qui dentro Guarda Quartetti Io sinceramente Non li faccio quasi mai Perché quartetti Devi avere proprio Team play È proprio difficile Comunque adesso Abbiamo fatto già L'altro ieri Il follower day Diciamo che Preferisco Fare entrare la gente Solo di solito Al follower day Perché poi È un casino Adesso Stefano L'ho fatto entrare Un Diciamo Non è La prima volta Che faccio entrare Dalla chat Di solito faccio Il follower day Perché poi Se no è un casino Perché ragazzi Adesso anche ieri Mi avevo chiesto Altri un paio di ragazzi In chat Di giocare Però Non riesco a far giocare Per tutti Ci faceva Adesso A parte che Lorenzo Se vuoi Puoi entrare Nel Nel gruppo Telegram Che tra poco Vorrei fare Una bella Privattozza Anche te Stefano Se vuoi entrare Ogni tanto C'è il bot Che Che spamma Il telegram Se vuoi entrare Vorrei fare Una cazzo Di privata Tutti insieme Secondo me Sarebbe figo Eh Manda Aspetta che Rientro su facebook Ogni tanto Lo spam Aspetta che guardo Eccolo qua Adesso siamo Una quarantina Però vorrei provare Ad aumentare Ancora un po' Perché poi Non è che Hai la certezza Che ci sono tutti Cerco di non Spammare troppo Ogni tanto Spammo Diciamo Il fatto Che sto entrando In live Tipo stamattina Non ho Non ho detto niente Eccolo Eccolo Allenatevi finché potete Tra poco Entrerete in campo Tu non mi ricordo Ma con la parita Poi l'avevamo vinta Quella dove Poi ti abbiamo ucciso Sembra di sì Forse Ma era così Era terzietti O coppie Forse coppie Coppie Mi sa Non mi ricordo Era coppie Hai cecchinato Vincenzino Ah è vero La fine È vero Mica Vincenza Poverino Gli ho anche detto Questo è scarso Però poverino Mica L'ho craccato Di solito Mica Vieni craccato Ti metti Tra uno Ti ripari Non riparo E lui continuava a spararmi Cazzo Maledete Infatti mi ha terrato Ecco la partita lì Ci ho tirato Della belle cecchina Ero con il mio cognato Il buon Roger King Dove E guarda Io di solito Non ho Non ho Tanti punti Che mi buto È sempre lì A destra Qua O a destra Qua Però ti direi Adesso lì Solo che ultimamente Lì mi sta facendo Un po' i nervosire Perché c'è Il Io di solito Pingavo già Dove scendeva l'Odi Indovinavo sempre Adesso lo sta L'Odi Spona un po' a caso E soprattutto Una volta Quando eri qua sopra Al lago Ti faceva spawnare L'Odi qua Quindi nel momento Che c'era L'Odi Che ci spawnava qua Te eri sicuro Che sopra Quasi sempre Non c'era nessuno In realtà Adesso è diverso In realtà C'è sempre un team sopra Infatti Probabilmente Cambierò anche Il land Perché Non mi piace Io tipo InstaSafe Vado a power plant Ma c'è anche Simo Che c'era L'Odi qua Non è male Perché a me piace Sempre Prendere già l'altezza E se si chiude Sei già in altezza E rimani in altezza Adesso ho fatto Così ho fatto Lo sniper Sì sì C'è un team sopra E questo Mi sei ricastrato Cos'è lui Attenzione Cugile laser Ragazzi Cugile laser È lui È lui Cugile laser blu Oh Niente da me No Sono sceso Io Torra uno Arriva Arriva Dove che Deve capare Se no L'altro Eh là sotto Andiamo a pushare Non lo mettiameli Oh Da die Sì da sopra Dove l'amma noi Sfiga però Vento 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 Cazzo C'è gente sopra Forse Ha tirato È ancora Lui che guarda Quello lì Eh l'ho visto Come cazzo Ne usciamo Aspetta un attimo Cazzo di equipaggiamento Alleato Gas in arrivo Qua È qua Punto di raduno Marchiamo Niente Lasciate perdere Quanti sono i nodi Tre Quattro Tre o quattro Arrestato eh Mi sa che ha beccato Arrestare Non lo scudo Dile uno Prendete i drop Che Guardate me Uno Fatto Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Mi hanno lasciato uno lì Ce l'avevamo con un flyer sopra Scudì il mondo non riesce a lasciarmi due all'ora Sì tieni Morto Qualcuno prende quella corazza E' qua in una mano Io c'ho scudi eh Io se me ne lascio Ah va aspettate raga Ho trovato la cassa di Ah ok perfetto Prenda quella corazza E' comunque ci avete colpi snipe per rega E' qua l'anno E' mi rilasci Mi rilasci Mi rilasci Guarda però dovremmo guardare l'odio rega Non dobbiamo andare troppo lontani adesso Hai ragione Ah no però ha arrestato avete detto Sì ha arrestato Però poi è venuto verso di qua Tre lodi rimangono Oh qua sta salendo Ha arrestato uno Ha arrestato l'altro Vabbè dai Vabbè Uno è serpentino Quello sotto di uno è serpentino Credo sia finito a corazza Guarda questo qua a terra Vediamoci qui Ok Sono caduto È morto questo qua A terra questo Mi manca uno ancora di sotto in qua E' laggiù Trappato One shot Trappato GG Bella rega Spendiamo un po' di altezza Magari facciamo tutto il giro Poi Verifichiamo se poi Andiamo su Sì situazione Sì mi lascia il salto Tu che non ce l'hai per conto Poi ci sono altri lodi Sì sì infatti adesso Facciamo un giro in tiro Ma poi riprendiamo il timing Sì sì inserzo Sì 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 ieri lo dice sempre due ma scusa trasporto sparano un po non so Dietro di me Andiamo a prendere il lago Da sopra Me li ha dati più sotto Della mia altezza Però non ho guardato se era lontano Ha preso il pallone Qua sotto al lago Vanno dall'altra parte del ponte Non vengono da noi Ok hanno restato Si è buttato uno Si è buttato va a prendere il pallone forse Si va a prendere il pallone Spariamogli No mi si è bloccato tutto Mi sa che mi è crashato il gioco A terra A me si è bloccato il gioco Sai mica se ti hanno ucciso O se si è crashato No è crashato Ho provato a ressarti No no non vedo il gioco È crashato il gioco È crashato il gioco Porca Il fatto che non esiste il modo di Non esiste il modo di rientrare in partita Beh è brutta Beh quella potrebbero fare Ce l'hanno tutti i giochi Sacca corazze Vengo da te Beh Dio doveva ricordareci che siamo due oltre Sì Peccato No ci sono sempre tre Io non li vedo più Ah qui Il cazzo vi è quasi addosso Allora ne sono venuti appena Di tipo Macchina Macchina si Ma che cazzo fanno Siamo tutti nella zona Si pezzo lo vede più Andate Guardate Guardate il perifollo Ragazzi Guardate grigio Tu le pensi E' entrato in casa Sì 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 Oh macchina Macchina Entrato No lo sniper Il maledetto L'ha provato Mi sa che non ha piastre Non lo so Questo era uscito col coltello Ho paura troppo Che ci sia qualcun altro Eh infatti Ha preso il pallone Cioè Ha messo il pallone M**china Rack S Andiamo oltre Lo busciamo Io lo voglio rompere Ok Non lo vedo più Io sto provando A avvicinarlo Ma no Non mi metto mal di gola Mi morebbe Tu lo vedi No No Manco io Il pallone non l'ha preso Non c'è un cazzo L'ho visto forse Non ho capito se era la foschia Ho solo visto veramente Ti dice un po' davanti Perca Cosa bella Si è lasciato andare subito Quindi era Ma era lui E una rosa Quella nuova 3.0 era La mia stessa skin Mi sembrava di sì Come pezzo è arrivato lì? E col pallone Non ho visto Prendere Sì sì La fatela presa E' andato via E' andato via Perca dicevo Di pushare Ehm E' mica tutto fatto Stessa Che non abbiamo neanche contratti da fare qua Eh Quello è fatto Mi urta un po' Non c'è niente Ma ne ha messi pochi generale Perca di se è possibile Qua andiamo qua davanti Vedere se c'è Ecco Questa era una bandiera da fare lì E' piuttosto guarda Però non c'è un po' di guerra Ah ha rissato lì davanti? Ha rissato E che altro il flyer? Perché io stavo Oh eccolo qua Eccolo qua Peccato Oh c'era Serpentino Cerca di coprire le tue tracce Taglia Taglia e non troppo lontane Dai Perché se ando contro Tra la fine Ogni volta Vuoi pushare? Si si Per ottenere balle Come è sceso? Dietro è andato A capitan Sicuro Mi ci manca 800 Magari qua sotto la torre Ma do Ti è partita lenta Dai andiamo Andiamo in safe Sì Sì E' bello che siamo anche due o tre E' di solito che si avverete qua Poi ti trovi tutti addosso Si si Quando Si è bella che non c'è nessuno Si è circondato Ma ce l'abbiamo Ti lasci i soldi Ok Andarcela Allora fare subito qua Dopo non ce n'è Forse per quale non c'è gente Ci sono pochi shop Zero contratti Hanno rimesso Lo shop come prima Senza tutte quelle minchia Qua devono salire E questi stanno saliti Conviene a prima peste Allora si si son qua Sì prendiamo Prima quelli davanti Se riusciamo Oh poi si vanno dritti Dritti per dritti da noi Davanti a noi Eh si Sì li vedo Eccoli Sì vabbè però che sfiga Hanno massima allerta Allora si ripete Sopratteda 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 Ma è neanche perché Vado Questa qua l'avevo evitata a merda Che crossava Questa eh Questa da dallo Eh erano bravi Però mi chiuso qua crossando L'avevo distrutto Ma sempre te l'avevo distrutto Sopravvivi e tornerai Massima allerta Si son girato subito Sopratteda 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 Si proviamo a prendere altezza Io non saprei Perché mi chiede Ok Sopratteda 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 È veramente Pazzesco Non ci credo cazzo raggiunga vedere se sopra della casettina se no cerchiamo in queste case iniziali dobbiamo arrivare alla zona sicura subito ho trovato la cassa con la l'uola che non sarà tanto forte quando ci ricordiamo se avevamo trovato o non ho trovato cassa speciale senza scudi senza un cazzo io ho paura che ci arriva gente da piccola davanti sparano però se provare a entrare nel fight se magari c'hai delle armi la marco verde e il tuo automaton io ho il brand del gula che fa schifo qua si è meglio l'automaton del gula che non è malissimo arriva uno in volo a sinistra si staccato non l'avamo ancora vicino però fai tanto infatti questo qua sarà il team forte della parte di là speravo di poter fightare sotto qua invece un altro flyer poterà spararsi questo qua proviamo non so sicuramente quelli forti bersaglio in vista un altro flyer in su un altro flyer che si sta buttando davanti ok era uno di quei due forti a sinistra a sinistra qua ecco c'è arrivato uno in paracadute dietro occhio dietro dove siamo arrivati noi qua sotto allo shop alessato infatti ma devo stare lotterattori del curvamento alleato arriva un camo il camo paura degli scudi cazzo è sceso questo è sceso anche di sotto ha detto vaffanculo questo si dita non capivo sia di te o forse questo qua sotto c'è delle armi mi sembra di scudio e anche io ne ho andiamo a vedere qua sotto lo shop ne ho fatto uno via dietro fire dietro potrebbe essere zac sono due su due attenzione in alto avevano un lodi lì avevano un lodi lì e non andagli da dietro da dietro dove eravamo dal lago lo sento close mi hanno colpito ma colpito è finito il timing attenzione in alto un po' di entrare nel fight un po' di entra ho avvenuto lo senti Perfetto, perfetto, sai lui sai che sei qua. No, ha fatto lui, ha fatto lui, ha fatto lui. Ah, ok, ok. Questo è di nuovo quello l'equilo, bravo. Ah, ma poi non mi ricordavo, comunque erano 3. Sì, sì. Eh, 2-3 cos'è difficile. Eh, poi si riesca a farne altri. Moon, ci sei? Sì, sì. Ti sto invitando. Ero Moon. Arriva. Ho la seconda bella P-Shark. Ero Moon. Arrivo, eh. Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti 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 Uno Grazie a tutti 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 Sono appena Anche per me Grazie a tutti questo è il gulag broken camera ciccio broken camera ciccio porta un po' di pazienza stai scappando raga uno l'ho fatto quello che ci ha pusciato in pallone ok 14 15 Grazie a tutti. Vinci questo scontro e tornerai al fronte. Perdi e te ne tornerai al fronte. Vai e fatti valerlo. Sparano addosso. Non hai avuto pietà. Preparati all'arrientro. Io ho morto qua. C'è una qua. Eh, io sono tentato di andare qua. Perché c'avo le armi. Avevo una cassa. Ci vado. Non posso spararlo, però. Troppo lontano. È tornato l'amico del Gulen. Non sono copatto. Freni, bella amichele. Grazie per il like. Come vanno le partite? Guarda, terzetti non ho messo a vincere. Terzetti, quartetti non ho messo a vincere. Coppia ne abbiamo vinto già un pammon e non ho crashato. Non vedo più. Non ho tutto. Eh, Gula che è morto. Adesso ti vedo. Sì, com'è la stazione? Eh, qua capita, sembra tranquillo. Ho tirato una via. Bene. Non ho un accanto. Sì. Una terra ha mai fatto l'altra. Ma ha fatto da sopra. Al piano sopra. Mi sta a me. Andrà tutto bene. Sta pushando, sta pushando, sta pushando. È qua? Resti solo tu. Alla via. Alla via. Alla via. Sono ancora in gioco. Occhio. Sette cagli. Mi chiamano la sopra proprio. Eh, vabbè. Ti dico. No, vi salgo in gioco. Non ti vedo online. Non ti vado via. Oh, niente. Non sta. Io ne faccio ancora una, poi ho da mangiare. Anch'io C'era frenesia Ma dove cazzo è finito? Non ci sei online Ma l'hai detto frenesia Dovevi entrare prima Dio buono Stare qua a aspettarti Maledetto Puoi sempre aspettare Madonna Non mi sento per nulla bene Dio buono Staccarsi mal di gola Portetti? Yes Arrivo Tanto guardo su Facebook Se è stato Entra in disco oppure Frena Disposto Disposto Che palle Ecco l'ho È mutato Ecco l'ho E deve entrare con l'altro Misendi Eccolo Lui o non è lui? È lui È lui Pazzesco Eccolo Mi inviti dottore Ti ho già invitato Ti rinvito Ecco l'ho lì Eccoci Com'è? Bene bene Tra l'ho mal di gola Raffreddore Tosse Qualsiasi cosa E non sono convizzato Faccio proprio Fatica a parlare C'è proprio Non so se si sente Ma proprio faccio fatica C'è proprio male Mentre parlo Un mese fa Il covid Sì sì Inizio di agosto Sono i postumi Pazzesco Ma ho dormito Tutto il tempo Con il cazzo di condizionatore Acceso Non è mai successo nulla Poi per non usare Se c'è Per non fare Tutta l'estate Con il condizionatore Abbiamo messo Un ventilatorino Appena ho messo Il ventilatorino Mal di gola Porco zio Ho sempre dormito Con il ventilatore addosso Senza senso Come sono le partite oggi? Dure? Se vincete? Ma finché abbiamo fatto due L'abbiamo vinta Praticamente tutte Abbiamo fatto 3-2 L'abbiamo vinta due E poi Le trio Male male tutte No vabbè No male no Due game Benino Gli altri male Ottimamente c'ho Trio e quartetti Non le dico Finito il film Vai vedrai Che avrà arrivato Il frenesia Attenzione Il frenesia Armonia Comunque bene Io ti vedo In tutte le screen Dei tornei Sei iscritto A tutti i tornei Ma basta No In tutti i tornei Tutti i tornei L'altra volta ho visto Savi che ha vinto Ne ha vinto uno E c'era il team frenesia Con zero punti Manco mandi le screen Non mandi manco le screen Fai i tornei Ma che cazzo me ne frega Abbiamo fatto anche un bel torneo L'altro giorno Te fai tornei per partecipare Non mandi manco le screen Smetti La va No Smetti La va E che prendi Prendi il Kaiser Prendi il Kaiser La scusa della screen La scusa della screen Il prossimo torneo Quando mi vedrai Quando mi vedrai in vetta Rosicherai Perché ti hai smesso di crederci No io mi diverto così Mi diverto così È come la scusa della screen Mi diverto così Mi spiace Come va Moon? Tutto bene? A po' E c'è stato il ritorno di Moon Moon è appena tornato Bene Ma sì Dopo da una vita Poi il primo giorno dopo Oggi E lo vedi I pezzi grossi Sostrano sempre insieme Ehi E in coppia Chissà come va in coppia Come gli Ma il normale Siamo a distanza Come gli Stronzi Ah gli stronzi Sono in coppia? Sì I coglioni Ma io seguo 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 Buon riddick Sarò la tua ombre Eeeh Fammi vedere come Non ti conviene Mi sono set di KD Come gioca Ma c'ho mal di gola Dio boh Non sto morendo Comunque oggi Anche 5-0-8 Non male Però porco schifo Perché ero Micole trio Anche io ho fatto Delle belle partite Ultimamente Però muoio Troppo spesso Cosa cazzo Cosa cosa? Molti dicono Che le trio Sono più difficili Dei quartetti Tipo No io trovo Che i quartetti Sia più difficile Ci vuole molto più T-Price Che i quartetti Non c'abbiamo Gente sulla destra Nooo Nooo Sono trasciato Nooo 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 Altro pass Che due coglioni Niente Va bene, è un bel gioco Dove andiamo? La vedi un po' c'è, armonia no? L'ho aiutato a morte uno Non l'ho ucciso qua Non ce l'avevi altri E non ce l'avevi altri 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 Un team front Non lo so Ne ho potuto chiudere il gioco Dove sono? Ah no Ah no Il mustiner Oh gente Dove 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 C'è gente in quella casa lì Quella casa lì piccolina Ho sentito un movimento Sexy Questo è la È la casa speciale Che ti da il lobby preferito Ah vada è bello Però non ti da i perks Oh Eccoli Eccoli Oh wow Stai usando lo Snikers? Si Chi sparava quello? E niente Crash out Sotto corre? Forse fuori? No Oh oh Ciacchinata dall'alto Laggiù tipo Qua 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 Sono tre allineati lì Ma sono scarsi Sono due craccati e uno a terra Vabbè dai raga Che cazzo dici? Io l'ho aiutato a terra Vabbè in testa Va bene dai Sono scarsi questi qua raga No 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 Terra L'ho aiutato con un altro Tim Craccato un altro? Sembra di sentire uno dietro Sembra di sentire uno dietro a granaio ma non vorrei che pagate L'ho ucciso l'ho ucciso No qua dico Vediamoci Vediamoci Perché l'ho ucciso con una granaio? Ah lì non lo so Che c'era 100 Sembra di sentire uno dietro a granaio ma non vorrei che pagate C'è la gente qui o sbaglia? Occhio l'elicottero? Occhio l'aereo Occhio l'aereo Vieni Moon Ti servono o ce li hai se per il nodo? Sono zero completo Occhio l'aereo Non hai capito la domanda Ah voi prendete il broskins? No non li ho neanche se prendo il Ok Ma che armi sta tutando voi ragazzi? ZRG è arma guerra Ma è ancora di della roba vecchia Ma proprio è girato il cazzo che era a terra Il Grau è tornato lo sai? Ma più o meno Il Grau infatti anche io Il Grau è fuori Il Grau è fuori Diamo storage ne ho affittato lì C'era gesto sotto di nuovo da dove siamo arrivati comunque Ha distrutto anche il pallone Vediamoci qui Anzi può distruire il pallone? La prima volta lo stalker Questo è il 500 poi per ricostruirlo Qua Destinazione marcata Noo ignorate Un flyer alto ma non c'è tra un cazzo Qui erano qua eh? Oh ma questo? Dove cazzo sono andato sugo? Erano qua? Flyer qua? Attacco il tiratore Arraccato Oddio Comunque mi stavano colpi sniper Si tieni Può avviene mio? Non l'ho sentito Colpi di grosso calibro qui Allora è lontano Non c'è mai lontano Gli andiamo qui sotto perchè a me sembra ti senti un rumore io no? Oh se lo corre in senso Sì 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 Abbiamo un UAV eh? Faccio UAV Buono Palloncino non c'è Sono messo un davanti eh Se hanno un UAV erano davanti a me Vieni a prendere un UAV dove sei? Parco diaz Ho lasciato i soldi? Nooo Dico Ah ok Erano anche i miei? Ahia Ho detto freno no? Non c'è C'è la gente sicuramente sotto per esserlo verso village d'acqua Tira subito? Sì si tira subito UAV alleato in volo Dategli la caccia Secondo me o andiamo mines o village Palloncino Mettà marcata Quella come si costruisce? No dai 500 vai lì Palloncino E' una manca chissà Destinazione marcata Il flyer sta scendendo Pertaglio in pista Gli comunque andrà qua eh Un altro flyer sta faiettando lì sotto mi sa c'è un altro fuori alla storia e ci sta andando per la roba mi sa qui si trova che è andato a te ma vaffanculo li cracko tutti eh, si riesco dov'è? vediamoci prima vi faccio la SWAT no ma c'è qui sotto uno nooo qui sotto è qui, è qui il tuo compagno è nel gulag chi sopravvive si guadagna un rientro ci c'è un pallone l'aero, l'aero fa il bombardo forse fake 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 hai di nuovo colpi sniper per favore 40 tieni eh io te l'avevo non so se l'hai ucciso l'avevo colpi di grosso calibro qui vedete poi vuoi riprenderti l'odio o vuoi andare all'in mezzo alla strada? non so, scusate che ho fatto il compagno rientrerà in battaglia vuoi prenderti l'odio o vuoi andare a prendere le armi? no vado, come volete voi le armi non sono prendibili eh non lo so perchè ci sparano da sotto sono continuato da sotto e allora semmai vado a seguire con le armi oh vete io ti sono attico ho preso il pallone qua si mi apri un attimo vado via vado io passo da sotto qui mi sembra che sei morto per qua destinazione marcata oh gente qui ecco perfetto non me l'ha pingato qua dentro comunque è andato destinazione marcata niente lasciate perdere eccolo è in contatto partato one shot ti sono uscito sto sparando qua è sempre l'aereo vado sei sempre morta lancio una stordente vedrà te un flyer che va qua attacco il tiratore prendiamo il farmacino è un altro sul tetto sono due sul tetto a terra tutti e due ho a terra uno ok morto come gli altri due piccato sono crashata mi spiace ha rotto vetri tu frene mi è arrivato un colpo di sniper mi sa dalla collina qua sopra tipo sembra la fronte mi ha dato il stimolo laterale ah sparano dallo shop dallo shop che non lo vedo grigio uno ha craccato l'altro largo 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 ha craccato ma dai c'era il colpo continua a craccarlo il maledetto li stavano fightando eh frena eh occhio e frena c'ho l'arma laser cazzo in due no vabbè l'arma laser di sto cazzo però c'è un po' di bianno un'atterratura c'è un'atterratura c'è un'atterratura una tre botta anche da dietro comunque e cric andiamo in safe lo so io non atterratura ahhh fanculo qua lo shop quelli che ci sparavano chiese lasciate perdere qui l'assopera c'hanno tre armi laser fate attenzione eh ho visto una terra non abbiamo un pallone non abbiamo un pallone no 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 craccato oh uno è sceso la terra che è quello in due a terra dietro dietro un nemico no ma sto trasferendo dietro 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 craccati due ve ne ho perché ma sono un craccato vinci qui e tornerai sul campo di battaglia se perdi non potrai non è tanto vai e fatti valere soldato una? eh si mi è craccato tutto raga di nuovo non so più che cazzo devo fare ho fatto ho fatto la mano tutto sono le tue spalle ho fatto la missione che sei morto ma no la morte è qua ah mia prendiamo questo contratto sciacallo cacchia si va ma che è strana che si riesce a no ah c'hanno apparito in quartetti siamo avevamo già terzetti poi non coppia non si può sfaccare non si può sfaccare il pulire ma può da menter che ci vede ancora è una bella è una bella questa assa è assurda però è troppo è troppo si è bella quando ritorni in vita è pazzesca bellissimo se non c'è qualcuno qua mi ricorda che siamo partiti eh obiettivi trovati alla prossima destinazione da vecchi tempi dai dai guarda lì che figo sul 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 non ricordi sono réan iscriviti chi buono è buono chi troppo il nuovo obiettivo ecco qua c'è l'arma Ha tirato anche una via Allora, conta fino a 3, 2 Non vedo nessuno E qui di là la super taglia che ho dappi una UAV Dov'è? Fuori sotto da me L'obiettivo è eliminare il bersaglio Non lo vedo No, ma ha fatto un cecchino a lontanissimo, non so da dove Madonna, che sfiga C'è un cecchino a lontanissimo, stai attento Non riesco in nessun modo a venire da te, mi sembra Adesso spara bene L'autonomia può avviare laurita, rientro alla base C'è un soldato nemico, sono qui Mi hanno colpita E anche la taglia questo Ma dove te lo vedo? E qui sotto? Ah, sei in movimento Ma pazzi E per un secondo ho visto l'uscchio, porco Dio E ci siamo buscati anche l'altro? Sì Una macchina Una lo shop Una lo shop Una lo shop, qui sopra io Qui sopra io Aspetta, provate a dare a prendere Una lo shop Mi hanno colpita Salgo su Ma questo è sopra, sopra? Mi ha aizzato 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 Ma come è che gli altri stanno avvicinando? Sì, guarda, guarda Ma vabbè Ho fatto il coglione che ho scettato Sono shop sempre No, me lo sono fatto sulla testa Mi sa fanno Sto scappando Sono andato tutto Sono di alo shop, eh, però E' ovvero Mi ha aizzato E' ovvero No, buonissimo C'è un altro che è qui Questo non ha autoressa Colpito in pieno Mi scendere un po' più Questa che ti sta per confermare No, no, io sono coperto Sto indietro il minicolo Mi sta cercando di guardare, sì Sto ancora continuando a guardare Forse va via, aspetta, è andato via No, lo shop Non riesco a tirarti su Esci da sta cosa qua Dai, che bug di merda Top, c'era gente sulle polline Che vuoi andare? Non c'è stato l'esco? Io tu mi prenderei Un team nemico ti dà la caccia Ricognizione urgente Eccoli lì là Quali ci facciamo? Non so Lo so Lo so rosso io, cazzo No, no, c'è chi non ho C'è un soldato nemico Sotto di noi Siamo nella casa Giochiamocela Ma è che arrivo C'erano due dietro io, però Autonomia UAV esaurita Rietro alla base E il gas vi raggiunge Quelle sono la base free Oh, sono caduto Uno quasi a terra No, quella da la terra Mi ha restato C'è un'altra a sinistra, eh, Brodsky Anche C'è un'altra, Bro, l'avevi già ucciso Ho fatto, ho fatto Ho fatto, ho fatto Ho fatto, ho fatto Ok, io ho ucciso Un flayer Io ho bisogno di sgass, aspetta me la falle un franta però ho atterrato io con il flyer si però c'era un team che li ha sparato hai visto? è un team che li ha sparato io infatti devo ancora crossare cazzo merda questo secondo me è un flyer no eravamo gialli prima comunque abbiamo la safe dai seppettino ok arrivo arrivo prendo due piatti arrivo morto morto il flyer ma cazzo poi io non conoscevo c'era anche il tettuccio io c'ho l'autoressa problema che qua c'è sto buco qua che non mi ricordavo vale? ah c'è lo conosco di nuovo ogni volta che vengo verso destra eh sì vengo da te non ho proiettile dimitri non ne ho undici se riesci a darmene qualcuno eh? eh? sono poche anch'io cazzo no sono caduto devo volervi andare nel sottotento granata lanciata è lì? nuova zona sicura minchia dobbiamo andare open su senti audio aspetta eh ti lancia le taglia però ti lancia le taglia però ti lancia le taglia saremo sulla sinistra eh? fammi dare un'occhiata prima passare per forza se vuoi mi posso dar qui non rompo i vetri sennò oh ce l'ho dietro uno ah sei in movimento ce l'ho dietro da me eh bravo qua tipo no 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 bro i stardi mi sparano dobbiamo arrivare alla zona sicura subito è qui sopra la casa dove posso mai? ha inseminato i cacciatori dov'è? colpo assegno rimanentato questi non ci trovano niente allora ce n'è un'altra a sinistra non lo vedo bisogna salire non lo so qua ci sono due siamo morti bro dove sono? il tetto il tetto su se dobbiamo andare sulla destra qua c'è uno qui sotto c'era la fronte c'è ancora un altro sulla sinistra in fronte a noi eh dov'è? qui qua tieni ti rimasti la casa la piastra non è in safe ora è una merda se ne va il camion qua si può salire? se ne va il camion qua si può salire? oh mi spara ehi terra uno eh senza altezza qua in sto gioco non puoi vincere porco dio boi andavo tirando a terra stava facendo anche un bel cazzo gg laga gg gg cazzo era impossibile guarda guarda questi due erano su e poi c'era un altro team con noi sotto erano in quattro vivi è impossibile se ne ha giocato anche troppo erano due non troppo anche questo è meglio di così gg ragazzi gg cazzo e moon ha staccato il gioco se volete io ci sono ma che sento a me? eh perchè mi sa che abbiamo questo cos'è del bug ma è bug tutto ma io si aspetta ti faccio il sussurro aspetta qua ciao cazzo cizzo quai ma io non ti ho come amico come se non ti avessi come amico eh no ce lo ce lo ce lo ce lo ce lo scudo stupido io niente è la monkey grazie per il like diciamo che non poterci parlare non è proprio il massimo aia ok hai risolto monkey orco di asmo ok ancora hai dei fixa sta roba uuuuuh ok 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 purtroppo veramente sto cazzo di gioco è tutto positioning se 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 non avevamo cioè non avessimo avuto tutti sti cazzo di team che ci continuavano a venire addosso e salivamo prima e magari sarebbe andata diversa solo che minchia eravamo continuamente lì lì la cosa che può salvare l'unica cosa è il pallone un pallone bisogna sempre avercelo bene uscivi da questa situazione che andavi a prendere altezza magari prendevi ancora più altezza di loro provare lì il pallone infatti ha sgravato uno in safe andrebbe sempre da vedere che io in gioco di merda da vedere che è il gioco di merda tutto a posto non so che fare mchia mettetevi invitatevi state nella lobby e fixa porco dio cazzo fanno sentirlo bene it's incredible 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 aiaiaiai aiaiai aiaiaiai che c'è il bombardiere vado a prendere il bombardiere ho provato mi hai fatto cadere addosso, pensavo fosse partita il match attenzione, bombardiere madonna che brutto il bombardiere no 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 sono riuscito a distruggere ma solo che mi sarà un segno no tutti quelli con xbox non ti sentono c'era un altro ragazzo che non ti sentiva stranamente aveva xbox anche lui monkey non dire belli nate monkey riusciamo ad arrivare al final giù dov'è? anche lì che sfiga tutti crashati madonna ok si ma non si può crashare in due dai avrete lo stesso problema moon ha crashato due o tre volte cazzo oggi ora mi metto a smanettare bravo no perché ti giuro ieri io stavo tiltando eh c'erano delle volte che c'era il simo che diceva ce l'hai accanto, ce l'hai accanto, ce l'hai accanto, ce l'hai accanto, ce l'hai m***a te lo pingava in tutti i modi e poi sei morto non riusciate a parlarvi cazzo c'erano uno praticamente tra il corpo ok cazzo è andato eh andiamo un po' lunghi poi almeno spacchiamo tutti dai sono confidente lì craccato questo scappato scappato che mi andava di lato? e poi e poi mi stai ma il ma non arriva gente lì comunque lo è pieno eh Vabbè a pregare Sono scappati i due C'è la destra Un'arma cazzo Un'arma Altrimenti non la trovo nemmeno io Quando non trovi un SMG Quando atterri ho nessuna tipologia di arma Erano più a destra loro E' andato di fuori Passami il giro a favore Io ho trovato Io non mi tiro ancora niente Trovato UAV Due, sono loro Il gas vi è quasi a toso Stiamo arrivando Non sa di sì E' stata scoperta una bomba Nebula 5 Attenti Oh, davanti non lo vedo Passami scorte marcata Prendetela Siamo tutti nella zona sicura Siamo tutti nella zona sicura Scappando laggiù Nemico in vista C'è un soccato Nemico L'ho visto sul ponte Ha attraversato il ponte Va a prendere il palloncino Craccato, craccato Eh, niente Caccato ancora Vabbè, non lo scesiamo Andiamo a dare Un'autoressa Stavo tenendo il Lodi Che è uscito uno Che scendeva giù Un'autoressa Se non mi ricordo Dov'era? Non mi ricordo Qui? E' un'altra parte qua fuori Comunque Metta marcata Ah C'è proprio qua Metta marcata Vedo spari Dalla montagna Verso sotto Dove stiamo andando Spari là? Se volete Fattire il palloncino Ragazzi Vediamo dal lato Sì, ce l'ho anch'io Almeno Lo usiamo Sì, io sempre spari Anche questo Un po' stiamo Non siamo tanto alti Se ci sparano Da ogni fronte Ci spaccano L'hai visti più o meno? No Dove sono? Io non li ho visti E' un'ottomocchiata veloce Ma qui? Diceva lui di sì Io ho visto spari Mentre salivamo Ma qui? Sì, tipo che sparavano da sopra Sotto O al contrario Non lo so C'è una taglia qui dentro Andiamo Andiamo Sì Sono un secondo guardano Mi sembra che Sui tenti sia libero Hanno preso il pallone Da Da qua Da village E stanno venendo Verso di qua Tipo Ah, tipo qua Attento Allora L'obiettivo è stato marcado Bisogna eliminarlo Versaglio in vista Un' spre Nepal Sto bocati da Stai alla barca Stai alla barca C'è conosce un portatile Non so Non so all'opera Sto scientifico Sì Sto Hanno Sto Ah Hanno preso Un pallone A destra Più Sì Sì, c'era uno sotto. Wow. Qua, è stato qua? Hanno messato, sì. Ce l'ho portato, lì cazzo. Vado, vado a provare a tirarlo via. L'ho visto, l'ho visto sopra. Due sono due. Cazzo, ce l'ho davanti, rega. Un ping, non lo vedo, ok? Mi sembra una grossa mano, perché... Sto arrivando, Brodsky. Non vediamo niente, mi sento qua. A terra, a terra, a uno! One, one, no, mi hanno distrutto. Una a terra. Tantissima. Una a terra anche l'altro. Un asparato in due. Che parte ha del juego! Tuo compagno, Anna Goulart. Sopravvive, si guadagna un rientro. Gas e in movimento! Mi tiro atteso, che me volvigo! L'ho tiro io, tiro io, tiro io! U.A.V. alleato in volo, dategli la caccia! Tutti nella zona sicura! Ha sparato i due! Il compagno rientrerai! Abbiamo lasciato una bombia! Potenziamento da campo marcato! Io l'ho visto questa cosa qua! Vediamoci qui, non importa! Mi hanno colpito! Vido in! Siamo a spara che spari chi? Spara! 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 Stordito! Stordito! Fatti restare! Restati! Restati! Stordito! Mi sa che c'è la carta! Sono dietro? No! Mi ha inventato! Era lui che mi ha sparato! Stordito! 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 U.A.V. lo tiro! Stordito! Ma in realtà è comodo! Mi ha fatto le collate! Spara! Spara una macchina! Esplode dopo tre secondi! E vedi un botte della solde! E ti fa il Wav in automatico! Sì, è pazzesco. Non c'è nessuno, mi chiamano segno signori. Sto provando ad andare un po' in avanti per vedere se mi finga, ma... Sì, 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 qua, qua. Ah, però non sa che è. Andaranno... Eh, boh, sono a trovare... Provo a vedere dall'alto se sono lì. Non so se volete prendere anche degli autoress. Non vedo, non vedo nessuno. Torna lo shop, io. Mi prendo un Wavir e vi lancio tutto il resto, prendo l'autoress. Io mi riprendo l'autoress. Ricognizione urgente! Wavir, capono! Anderebbe che... che vogliono scendere a piedi o no? No, 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 no. Ando un bombardo io, ragazzi. È uscito, è uscito. Ah, sì, pinga, pinga. Ho due pezzi scatenati. Sono altri due. Oh, 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 tre e quattro, va dire. Tre lì. Hai visto? Questi dobbiamo farceli dall'alto. Becco dietro, allora. Aspetta, io farò questo qui, dai. È ritornato uno? Sono ancora in gioco. È attaccato quello che è tornato. Ce l'avevamo per il dietro, eh? Io non ci sono venuto da te, però. Come ha scappato? Non capisco dove mi spara. Ci muoio probabilmente. C'è ancora uno, eh? Sulla sinistra alto, non lo sai. No, uno è volato via. Uno mi sa che era rimasto a lei. Sulla sinistra. C'è un team da tre a destra, però. Alla tua sinistra, Sridik. Sridik. Lai zettia, non saranno da te. Due cazzo sono andati questi? non l'hai visto perché? no, secondo me è andato largo sulla destra perché ce n'era uno cavoittato che era largo sulla destra quello però è scappato via, quello l'ho visto, è proprio volato, volato via ah, però qui alla sinistra c'erano ultimi da tre sono riuscito a prendere solo qui, no, non l'abbiamo ci finisci si, 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 vicino a palloncino è vero, è vero, è vero, è vero sta per arrivare qua a terra salto blocciato orco, oddias cosa vi ho fatto, raga io c'ho quello per comprare UAB che costa meno, se mi date solo, io lo compro arriva, arriva, arriva vieni cosa gli ho fatto? si, ma quando vi ho fatto il tuo Schifo è vero, è vero la cosa è vero, è vero, è vero vediamo come si chiude andiamo a vincere questa partita dai tiro UAB, c'è UAB bravo, bravo, tiro UAB alleato in volo, dategli la caccia qua vi la gi non si chiama il loro portino di prima quindi magari facciamo poca attenzione mi sembra proprio lui uno qua eh meta marcata eh lo vedo è uscito si è accrossato vado fil de piu fil de, fil de piu ma vaffanculo bella io c'ho una shop portatile ma non l'abbia sotto ho lasciato la shop ho lasciato la shop, cosa faccio? lo tengo? potenzialmente da campo nel caso non è niente non mi ricordo abbiamo costo ma no 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 ho un flyer ho preso il pallone qui sotto ma non ho capito dove sta andando ho preso la striscia ma voglio aver preso altezza eh no 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 l'ho tirato da poco con codi salve no ce l'abbiamo la shop? eh non l'abbiamo si ce l'ho ce l'ho no ho dato la shop qua ce n'è che non abbiamo il sole ma lui dovrebbe avere ulteriori sconti si io ho gli sconti ho gli sconti oh flyer flyer sopra di me ma dov'è? è caduto è caduto ho bisogno i soldi ragazzi date i soldi e posso prendere tieni 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 hanno fatto un loadout ad airfield devi sniperarli questi ho creato il volo date i soldi facciamo una follia eh è un po' una follia questa però ecco il bersaglio per l'attacco aereo abbiamo gente dietro eh qua 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 gente questo bersaglio dai sono sfrettati raga mi vuole stunnare mi vuole stunnare non ti vede? la donna non si sente niente io arrivo ho l'estrazione e la il fast ma tu come mai sei andata la? perchè si sta chiudendo qua eh ho fatto l'ho detto facciamo la follia no no ma dico lui lui è proprio fuori safe arrivo arrivo uno ci ha fatto il giro da dietro l'ho fatto ah te l'hai fatto uno qui sotto sotto 4 attacco il tiratore eh eh prezzi tornate alla normalità manco li vede io questa arma c'è uno sul coso verde alto eh una casa verde alta ok sposa che cazzo che stavo sniperando sto provando a coprirlo una casa verde quella che abbiamo anche solo oh ti sapete è sceso dietro è sceso di qua è sceso di qua non mi sei fino a qui va si 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 andiamo a piedi? eh si io probabilmente sono morto alza al problema potremmo potremmo forse andare da lui però bene audio hanno restato dietro di noi alle nostre spalle fuori safe hanno fatto il load out dietro di noi no eh lo shop qua si stanno fightando ok devo entrare fuori dalla safe uno serpentino si è salvato assist sono tutti qui ah non ci credere mai ah non ci credere mai gas in avvicinamento nuova zona sicuro c'è un'altra gente ora colpone a me non mi ha dato ti manentato mi è arrivato qualcosa un bazooka tipo non lo so io ho un piccolo dobbiamo rotare verso di lui andiamo verso di lui sono 4 team a 8 persone non sono tanti gli sparano si sparano da verso le colline di ice pit ah qua la lagoon noi potremmo avere qualcuno ancora con la casa ce lo facciamo nuove non ce lo facciamo non ce lo facciamo guardate io lui ha più soldi di tutti i cazzo e non c'è più di sconti però non so io sto per andare a tagliare verso di te però devi riuscire a venirci in mezzo incontro secondo me io lo faccio enti sono morto tranquillo tranquillo faccio la sciop.. ok l'hanno fatto è la vittura Un team nemico ti dà la caccia, sopra il p***o Comunque la metà di età vera nuova sfonda la vicina, c***o Eh, gli andiamo a coprire il loadout, non lo so Eh, lì c'è due o tre team, cioè non so che c***o stanno Cosa stai facendo per il loadout? No, non capito C'è chi, c'è chi, c'è chi, c'è chi, qua Allora a finestra, quella a sinistra di finestra Adesso a destra Eh, andiamo a aiutare lui, ogni volta si è spettato Tre team, sette persone, tre team Ok, un team è quello là che ha fatto lui Un team è quello là, sì, che è in quella casa lì, sì Ci mancano gli altri due team da spottare Io, eh, io sono... Allora a venire da te, però se te continui a spostarti verso di là, non riusciamo mai a venire No, no, mi saluto C'avevo uno, dovevo spostare Qua sta faiutando sulla sinistra Adesso, ma davanti c'è gente, sì sì, io provo a prendermi le piastre Arriba il gas Dobbiamo prendere l'altezza su... lì davanti a te Sì, sì, qua Sì, sì, te richiamo, te richiamo, aspetta Dove sono, dove sono? Sopra, sopra, sopra Carra Occhio, quel nemico Io avrei bisogno di... Cazzo, aveva un pallone, aveva... Oddio, qua non te l'ho pusciato Lancia una stordente Ah, vai Stordito, stordito Stordito Oh, questo di chi è? Porto uno Bravi È arrivato un bombardo qua, comunque Mi sono messo l'entrata nel cubo Di chi è? Mi hanno spottato Mi hanno spottato Come sono nel buco Come si può... No, è davanti a noi Dietro, dietro una roccia Dove va? Ah, si, lo prendo Buonita, buonita Terra a terra Bella Due team Cinque persone Io sono arancione Ma questo dava la schiena agli altri Ma è possibile? Ho fatto lo show portatile a giù C'è un palloncino qua, lo prendo Se ne abbiamo due di palloncini, giusto? Se ne abbiamo due Comunque questa position è buona Mi sono da dietro ragazzi, però no? Mazzocca Io prendo un instant a la roccia qua Secondo me un team è sotto, nel buco Eh, infatti Mi hanno distrutto Non ho scudi Ma dov'è? Avete un bombi? Scudi ne avete? Scudi si, 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 si Qua? Amputate da metanela Appartamento di precisione alleato Attenzione Sono tutti hitati col bombardo Che sono lì, eh? Sono in tre, eh? Quindi ce n'abbiamo uno sotto eh? Nel buco Mi lascio, mi lascio Mi lascio, mi lascio Buono, buono, buono Prendo il laterale, giro a sinistra Sì, buono, buono Io cerco di tenerti il cross Comunque uno sta crossando, sì Non li vedo È crossato tipo qui dietro Vediamoci qui Io sto proprio girando tutto Sono ancora, uno è ancora nella casa È dal verde, dal pink verde L'altro mi sta pushando a me L'altro è qui fuori Bersaglio invito GG Bella, 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 cazzo Abbiamo vinto il terzetto Alla fine si vince il terzetto Attenzione E GG Ragazzi vado a mangiare Torno dopo Bella, bella, bella Chi ostaco Sì Bella, bella Bella, 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 bella Bella, 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 bella Gigi, gii, 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 gii Bella, bella, alla prossima Alla prossima, ciao, ciao Bella, bella Ciao, ciao Ragazzuoli Vi ringrazio per aver seguito la live Sul pomeriggio non credo di esserci Vediamo un po' Comunque Dai, è stata una bella mattinata Mi ha fatto delle belle sniperate Di nuovo Devo essere Devo un po' concentrarmi Sul fatto di Porco Dias Scaricarmi tutte le I VOD Prendemi il timing di ste kill Perché voglio fare un Cazzo di video di sniperate Che Attivamente Veramente Veramente Ne stiamo tirando Delle cecchinate Paura Porco Dias Paura ragazzi Cicchinate paura Porco Dias Ragazzuoli Vi saluto Grazie di aver seguito la live Bella, Tonio Levis, la win Super, Tonio Bella Ragazzi Grazie di aver seguito la live Ci vediamo presto Mi sa che Domenica sera O lunedì sera Vediamo un po' Ragazzi Buon weekend Divertitevi Bene ragazzi Belin se l'ho vista Grande Bella Marco Grazie per il like Tutta bella tosta Avamo Frenzia che Che è una bella bestia Giocava con me Sia a code 4 Che comunque C'è stato un bel periodo Su Su Wars Giocava insieme Bello Bello tosto Un po' Testina Che si butta a caso È andato da solo laggiù Poi è schillato Riesce un po' a A fare dei casini Uccidere di qua Uccidere di là E poi La si vince lo stesso Però Secondo me La si può vincere anche più easy Però vabbè Ci sta anche per lo spettacolo Buttarsi Uccidere tutti E via Ragazzi Bella E Alla prossima